Robert Louis Stevenson Il dottor Jekyll e Mr Hyde Capitolo 1 Storia della porta L'avvocato Utterson era un uomo dall'aspetto ispido e rude, mai illuminato da un sorriso, freddo, scarno e imbarazzato nel parlare, guardingo nei sentimenti, magro, lungo, polveroso, tetro, eppure in qualche modo amabile. Nelle riunioni di amici, e quando il vino era di suo gusto, gli si accendeva negli occhi qualcosa di straordinariamente umano, qualcosa che in verità non trovava mai la via della parola e si esprimeva invece non solo in quei silenziosi segni del volto dopo una cena, ma più spesso e chiaramente negli atti della sua vita. Con se stesso era austero, quando era solo beveva gin per mortificare la sua inclinazione ai vini dannata, e benché amasse il teatro aveva smesso di andarvi ormai da vent'anni. Era però assai tollerante con gli altri, e talvolta restava colpito, quasi con invidia, della prorompente vitalità che gli uomini mettevano nel compiere i loro delitti, e in ogni occasione incline ad aiutare piuttosto che abbiasimare. Sono incline all'eresia di Caino, usava dire argutamente. Lascio che mio fratello se ne vada al diavolo per i fatti suoi. Con un simile carattere, gli capitava spesso di essere l'ultimo conoscente degno di stima e l'ultima persona di influenza positiva nella vita di uomini caduti nel male. A costoro, finché continuavano a frequentare la sua casa, non faceva mai sentire il minimo cambiamento di modi nei loro riguardi. Certo, tale condotta era spontanea per il signor Utterson, poiché era riservato al massimo, e anche la sua amicizia sembrava ispirata al concetto cattolico della bontà. È tipico di un uomo modesto accettare un gruppo di amici così com'è dalle mani del caso, e questo l'avvocato Utterson aveva fatto. I suoi amici erano persone o del suo stesso sangue, o che conosceva da anni. Il suo affetto, come ledera, cresceva col tempo, e non implicava una particolare idoneità dell'oggetto. Di qui, senza dubbio, il suo legame con Richard Enfield, suo lontano cugino, uomo notissimo in città. Per molti restava un mistero cosa quei due potessero trovare uno nell'altro, o quali argomenti avessero in comune. Quelli che li incontravano nelle loro passeggiate domenicali, riferivano che essi non dicevano niente, apparivano singolarmente annoiati, e salutavano con evidente sollievo l'arrivo di qualche amico. Ciò nonostante, i due tenevano in grandissimo conto quelle passeggiate. Le consideravano il prezioso coronamento della settimana, e non solo rinunciavano ad occasione di divertimento, ma resistevano perfino al richiamo degli affari pur di poterne godere indisturbati. Una volta, durante uno di quei vagabondaggi, si trovarono a passare in una via traversa di un quartiere di Londra pieno di attività. La strada era piccola e calma, ma nei giorni feriali vi si svolgeva un gran traffico. Gli abitanti se la passavano tutti bene, sembrava, e, con la speranza di passarsela anche meglio, facevano a gara nello spendere il sovrappiù dei loro guadagni in civetterie. Perciò le vetrine dei negozi erano allineate lungo la strada con aria invitante, come due ali di venditrici sorridenti. Anche di domenica, quando nascondeva le sue attrattive più ricche e rimaneva quasi vuota, la strada risplendeva, in contrasto con gli squallidi dintorni, come un fuoco nella foresta, e con le sue persiane dipinte di fresco, i suoi ottoni ben lucidati, la generale pulizia e allegria di tono subito attirava e colpiva piacevolmente l'occhio dei passanti. A due porte dall'angolo, sul lato sinistro andando verso est, la fila delle vetrine era interrotta dall'ingresso di un cortile e, proprio in quel punto, sporgeva sulla strada un sinistro fabbricato. Era alto due piani, non aveva finestre, ma solo una porta al piano più basso e una facciata cieca dal muro scolorito a quello superiore. Ogni particolare denotava una sordida, prolungata trascuratezza. La porta, senza campanello né battente, era sporca e sbrecciata. I vagabondi se ne stavano rannicchiati in quel vano e sfregavano i fiammiferi sui battenti. I ragazzini tenevano banco sui gradini. Gli scolari avevano affilato i loro coltelli sulle cornici di legno e, per quasi una generazione, nessuno era mai apparso a cacciar via questi sbandati o a riparare i loro danni. Il signor Enfield e l'avvocato erano sull'altro lato della piccola strada, ma, quando giunsero di fronte all'entrata, il primo puntò la sua canna da passeggio in quella direzione. «Ha mai notato quella porta?» domandò. E, quando il suo compagno ebbe risposto affermativamente, «È connessa nella mia memoria», egli aggiunse, «con una storia molto strana». «Davvero?» disse Utterson, con un leggero cambiamento nella voce. «Che genere di storia?» «Bene, andò così», replicò il signor Enfield. «Stavo tornando a casa da un posto in capo al mondo, alle tre circa di un nero mattino d'inverno, e i miei passe mi portarono in una zona della città dove non c'era letteralmente niente da vedere, se non lampioni. Strada dopo strada, e tutta la gente addormentata, strada dopo strada, ognuno è illuminata come o per una processione e vuota come una chiesa, finché alla fine mi trovai in quello stato d'animo nel quale uno ascolta e ascolta e comincia a desiderare di vedere un poliziotto». Ad un tratto scorsi due figure, un uomo piccolo che, un po' zuppicante, camminava velocemente verso est, e una bambina di circa otto o dieci anni che correva più forte che poteva per una via traversa. Ebbene, ovviamente i due si scontrarono l'uno nell'altra sull'angolo, e allora successe una cosa orribile. L'uomo calpestò tranquillamente il corpo della bambina e la lasciò urlante sul marciapiede. Sembra niente a raccontarlo, ma fu una scena terrificante. Quello non era un uomo, era un qualche dannato Juggernaut. Lanciai un grido d'allarme, inseguii l'uomo, lo afferrai per il colletto e lo riportai là dove si era radunato già un gruppetto di gente intorno alla bambina che ancora strillava. Lui era freddo e calmo e non fece resistenza, ma mi diede un'occhiata così terribile che mi ricoprì di sudore come dopo una lunga corsa. Le persone sopraggiunte erano i familiari della bambina e quasi subito il dottore, che ella era stata mandata a chiamare, arrivò. La piccola non aveva niente di grave, era solo spaventata, disse il sega ossa, ed era presumibile che tutto sarebbe finito lì. Ma ci fu una curiosa circostanza. Io avevo provato repugnanza per l'uomo catturato fin dal primo istante e così anche la famiglia della bambina, il che era del tutto naturale. Ma ciò che mi colpì fu la reazione del dottore. Egli era il solito farmacista segaligno, senza età e senza colore, con un forte accento scozzese ed emotivo più o meno quanto una corna musa. Ebbene, per lui fu come per tutti noi altri. Ogni volta che quel sega ossa alzava gli occhi sul mio prigioniero, lo vedevo nauseato e sbiancato e col desiderio di ucciderlo. Sapevo cosa passava per la sua mente e lui sapeva cosa passavane per la mia e poiché ucciderlo era fuori di questione, adottammo la soluzione che ci parve più opportuna. Dicemmo all'uomo che avremmo fatto un tale scandalo della cosa da rovinare il suo nome da una parte all'altra di Londra. Se aveva degli amici e dei crediti, avremmo pensato noi a farglieli perdere. E tutto il tempo, mentre gli davamo addosso con queste minacce, dovevamo tenergli le donne lontane, poiché esse erano feroci come arpie. Non avevo mai visto un cerchio di volti così pieni d'odio. E lì nel mezzo stava l'uomo, con una sorta di nera beffarda freddezza. Impaurito anche, si vedeva, ma restando padrone di sé, davvero come Satana. Se avete deciso di trarre un guadagno da questo incidente, egli disse, «Naturalmente sono nelle vostre mani». Un gentiluomo preferisce evitare le scenate. Stabilite la cifra. Bene, riuscimmo a tirargli fuori 100 sterline per la famiglia della bambina. Lui avrebbe ovviamente preferito non cedere, ma c'era qualcosa in tutti noi che esprimeva minaccia e alla fine si arrese. «Adesso bisognava andare a prendere il denaro. E dove credi che ci abbia portati? Proprio qui, davanti a questa porta». Tirò fuori una chiave, entrò e subito tornò indietro con 10 sterline d'oro e per il resto un assegno per la banca Kutz, pagabile al portatore e firmato con un nome che non posso menzionare, benché sia uno dei punti più interessanti della mia storia. Ma era comunque un nome perlomeno molto ben conosciuto e che si legge spesso. La somma era alta, ma la firma valeva molto di più, se davvero era autentica. Mi presi la libertà di far osservare al mio uomo che tutto l'affare appariva improbabile e falso e che un uomo normalmente non entra in una cantina alle 4 del mattino tornandone con un check di quasi 100 sterline firmato da un'altra persona. Ma lui era del tutto a suo agio. Non si preoccupi, disse in tono sarcastico, resterò con lei finché aprono le banche e incasserò l'assegno io stesso. Così ce ne andammo tutti, il dottore e il padre della bambina e il nostro amico ed io passammo il resto della notte a casa mia e la mattina, dopo colazione, andammo tutti alla banca. Presentai l'assegno io stesso e dissi che avevo tutte le ragioni per ritenere che fosse falso, neanche per idea, l'assegno era autentico. Ahà, disse Utterson. Vedo che la pensi come me, disse Enfield. Sì, è una brutta storia. Perché il mio uomo era un tipo col quale nessuno dovrebbe avere a che fare. Un uomo veramente dannato. E la persona che mise l'assegno è un vero modello di decoro e rettitudine e per di più famosa. E quel che è peggio, una di quelle che fanno, come si dice, del bene. Un ricatto, suppongo. Un uomo onesto che paga molto cara qualche sciocchezza commessa da giovane. Ecco perché chiamo casa del ricatto il posto della porta. Benché sai, anche questo non riesce a spiegare tutto, aggiunse, e dopo queste parole tacque con aria meditabonda. Utterson lo trasse dal suo silenzio, chiedendogli piuttosto bruscamente. «E non sai se la persona che hai messo l'assegno abiti lì?» «Un posto adatto, vero?» replicò Enfield. «Mi capitò di far caso all'indirizzo. Abita in una piazza, non ricordo quale con esattezza». «E non hai mai chiesto niente del posto o della porta?» disse Utterson. «No, ebbi qualche scrupolo», fu la risposta. «Ho dei principi molto rigidi sul far domande. È un po' troppo nello stile del giorno del giudizio. Si comincia con una domanda ed è come lanciare una pietra. Si sta tranquillamente seduti in cima a una collina. E via, la pietra va, trascinandone altre. E poco dopo, un pacifico individuo, l'ultimo a cui avresti pensato, viene colpito alla testa mentre siede nel suo giardino e la famiglia è costretta a cambiare nome. No, mio caro, è per me una regola precisa. Quanto più una cosa appare strana, tanto meno faccio domande». «Un'ottima regola, davvero?» disse l'avvocato. «Ma ho studiato il posto per conto mio», continuò Enfield. «Non sembra quasi una casa. Non ci sono altre porte e nessuno si serve di quella, se non, molto raramente, il gentiluomo della mia avventura. Al primo piano ci sono tre finestre che danno sul cortile. Al piano di sotto non ce n'è neanche una. Le finestre sono sempre chiuse, ma sono pulite. E poi c'è un cammino che di solito fuma. Perciò qualcuno deve viverci. Ma neanche questo è del tutto sicuro, perché gli edifici intorno al cortile sono talmente ammucchiati che è difficile dire dove finisce uno e comincia l'altro. I due camminarono di nuovo in silenzio per un po'. «E poi, Enfield», disse Utterson, «è un'ottima regola la tua». «Sì, penso che lo sia», replicò Enfield. «Però c'è una cosa che vorrei chiederti. Voglio chiederti il nome dell'uomo che calpestò la bambina». «Beh, non vedo che cosa potrebbe esserci di male», disse Enfield. «L'uomo si chiamava Hyde». «Hmmm», fece Utterson. «Che tipo è a vederlo?» «Non è facile descriverlo. C'è qualcosa di strano nel suo aspetto. Qualcosa di sgradevole. Qualcosa addirittura di detestabile. Non avevo mai visto un uomo che mi desse tanta repugnanza, ma non so esattamente perché. Deve avere qualche deformità, dà proprio l'impressione di essere deforme, ma non saprei dire in che cosa. È un uomo dall'aspetto fuori dell'ordinario, eppure non posso citare niente in lui di anormale». No, non riesco proprio a descriverlo. «E non per mancanza di memoria, perché ti assicuro che mi sembra di vederlo anche adesso». Utterson di nuovo fece un tratto di strada in silenzio, ed era visibilmente oppresso dai suoi pensieri. «Sei sicuro che abbia usato una chiave?» chiese infine. «Mio caro», cominciò Enfield sorpresissimo. «Sì, lo so», disse Utterson. «Capisco che debba sembrare una domanda strana. il fatto è che se non ti chiedo il nome dell'altro è perché lo so già. Vedi, Richard, il tuo racconto riguarda anche me in certo modo. Se sei stato inesatto in qualche particolare, ti prego di correggerlo». «Penso che avresti potuto avvertirmi subito», disse l'altro, leggermente risentito. «Ma sono stato, come dici tu, pedantemente esatto. Quel tipo aveva la chiave, e ti dirò di più, ce l'ha tuttora. L'ho visto servirsene neanche una settimana fa». Utterson fece un profondo sospiro, ma non disse una parola, e l'altro riprese. «Ecco un'altra lezione. Non bisogna mai dir niente. Mi vergogno della mia lingua lunga. Facciamo il patto di non parlare mai più di questa storia». «Con tutto il cuore», disse l'avvocato. «Te lo prometto, Richard». Capitolo 2 Alla ricerca del signor Hyde Quella sera Utterson tornò alla sua casa di scapolo d'umore cupo e sedette a cena senza piacere. La domenica, terminato il pasto, era sua abitudine sedersi vicino al fuoco con un libro di arida materia religiosa sulla scrivania, finché l'orologio della chiesa vicina suonava alla mezzanotte, ed egli se ne andava a letto con animo grato e tranquillo. Quella notte, però, appena fu tolta la tovaglia, prese una candela e andò nel suo studio. Qui aprì la cassaforte, ne trasse dall'angolo più nascosto un documento indicato sulla busta come testamento del dottor Jekyll e si sedette tutto accigliato a studiarne il contenuto. Il testamento era olografo perché Utterson, sebbene l'avesse in consegna ora che era redatto, si era rifiutato di prestare la minima assistenza nella fase della stesura e disponeva non solo che, in caso di decesso di Henry Jekyll, tutti i suoi averi dovevano passare nelle mani del suo amico e benefattore Edward Hyde, ma che, in caso di scomparsa o inesplicabile assenza del dottor Jekyll per un periodo superiore ai tre mesi, il detto Edward Hyde doveva subentrare al detto Henry Jekyll senza ulteriori rinvii e libero da qualsiasi impegno o d'obbligo, eccetto il pagamento di alcune piccole somme ai domestici del dottore. Questo documento era da lungo tempo una spina nel cuore di Utterson. Lo offendeva sia come avvocato sia come amante della vita sana e ordinata per il quale la bizzarria è dissolutezza. Finora era il fatto di non saper niente del signor Hyde che lo aveva reso gonfio di indignazione. Adesso, per un improvviso capovolgimento, era il fatto di averne saputo qualcosa. Era già abbastanza spiacevole quando il nome era soltanto un nome del quale egli non poteva sapere di più. Era peggio ora che cominciava a rivestirsi di odiosi attributi e fuori dalle incorpore e mutevoli nebbie che per tanto tempo gli avevano ingannato la vista, balzò all'improvviso il chiaro presentimento di qualcosa di demoniaco. Pensavo fosse pazzia, disse, mentre riponeva al sicuro il detestabile incartamento e ora cominciò a temere che sia qualcosa di ignominioso. Su questo spense la candela, indossò un cappotto e si incamminò verso Cavendish Square, quella cittadella della medicina dove il suo amico il grande dottor Lanyon dimorava e riceveva una gran folla di pazienti. Se qualcuno sa, questo è Lanyon, aveva pensato. Il solenne maggiordomo lo conosceva e gli diede il benvenuto. Non dovette aspettare e fu subito introdotto nella sala da pranzo dove il dottor Lanyon sedeva da solo con un bicchiere di vino. Era a questi un uomo giovane, pieno di salute e di vita, con la faccia rubizza, una gran chioma precocemente incanutita e un modo di fare chiassoso e deciso. Alla vista di Utterson si alzò e gli andò incontro con le braccia tese. La cordialità e un po' tutti gli atteggiamenti di Lanyon potevano sembrare in certo modo teatrali ma si fondavano su sentimenti genuini. I due erano vecchi amici, vecchi compagni di scuola e di collegio, ambedue del tutto rispettosi di se stessi e l'uno dell'altro e, cosa che non capita spesso, godevano interamente della reciproca compagnia. Dopo qualche chiacchiera di poca importanza, l'avvocato venne all'argomento che lo teneva tanto in angustie. Lanyon disse, suppongo che tu ed io siamo i più vecchi amici di Henry Jekyll. Vorrei che fossimo amici più giovani, risi a Lanyon, ma penso che lo siamo, perché me lo chiedi? Ormai lo vedo pochissimo. Davvero, disse Utterson, credevo foste legati da interessi comuni. Lo eravamo, fu la risposta, ma da almeno una decina d'anni Henry Jekyll è diventato troppo fantasioso per me. cominciò ad avere idee strane, e benché naturalmente io continui ad interessarmi a lui in nome della vecchia amicizia, come si dice, lo vedo e l'ho visto pochissimo. Un guazzabuglio di sciocchezze così poco scientifiche, aggiunse in un'improvvisa vampata di lossore, avrebbe reso estrane di Damone e Pizia. Questo piccolo scatto di rabbia fu un sollievo per Utterson. Hanno avuto dei contrasti solo su argomenti scientifici, pensò, ed essendo un uomo privo di passioni scientifiche, tranne in materia di giurisprudenza, soggiunse, se non è che per questo. Diede all'amico qualche secondo per ricomporsi e finalmente affrontò la questione per la quale era venuto. Hai mai incontrato un suo protetto, un certo Hyde? chiese. Hyde? ripetè Lennion. No, mai sentito, almeno da quando conosco Jekyll. Queste furono tutte le informazioni che l'avvocato portò con sé nel grande letto scuro in cui si rivoltò nervosamente per molte e molte ore fino al mattino. Fu una notte di ben scarso sollievo per la sua mente che continuava a lavorare e brancolare nell'oscurità più fitta assediata dalle domande. Suonarono le sei, dalle campane della chiesa che era così comodamente vicina all'abitazione di Utterson ed egli era ancora alle prese con lo stesso problema. Finora era stato toccato dalla cosa solo intellettualmente, ma adesso anche la sua immaginazione vi era coinvolta o meglio intrappolata e mentre giaceva e si agitava nella pesante oscurità della notte e della stanza fatta più buia dalle tende, il racconto di Enfield gli passò davanti agli occhi in un bagliore di rapide immagini. vedeva un grande spazio pieno di lampioni in una città di notte, poi la sagoma di un uomo che camminava velocemente, poi quella di una bambina in corsa di ritorno dal dottore. Poi i due si scontravano e quel juggernaut umano calpestava la bambina e passava oltre incurante delle sue urla. Oppure vedeva una stanza in una ricca dimora dove il suo amico giaceva addormentato e mentre sognava sorrideva dei suoi sogni. E poi la porta di quella stanza si apriva, le cortine del letto venivano tirate di colpo, il dormiente richiamato alla realtà ed ecco accanto a lui sta la figura di un uomo che ha ogni potere e anche a quell'ora morta egli deve alzarsi e obbedire. La figura in questi due atteggiamenti tormentò l'avvocato tutta la notte e se ogni tanto si addormentava era solo per vederla scivolare furtivamente attraverso case addormentate o muoversi sempre più rapidamente fino alla vertigine attraverso labirinti di città illuminate da lampioni e ad ogni angolo di strada schiacciare una bambina e lasciarla tra gli urli. Ma la figura non aveva un volto dal quale potesse riconoscerla. Anche nei suoi sogni non aveva volto o ne aveva uno che lo ingannava e si dissolveva davanti ai suoi occhi. e fu così che esplose e crebbe nella mente di Utterson una curiosità singolarmente forte quasi frenetica di vedere i lineamenti del vero signor Hyde. Se avesse potuto mettere gli occhi su di lui anche una sola volta pensava che il mistero si sarebbe chiarito e forse dileguato del tutto come accade delle cose misteriose quando vengono esaminate attentamente. forse avrebbe visto una ragione della strana predilezione o schiavitù comunque la si voglia chiamare del suo amico e anche della sorprendente clausola del testamento. Comunque era un volto che valeva la pena di vedere il volto di un uomo spietato un volto che col solo mostrarsi aveva provocato nell'animo poco impressionabile di Enfield un durevole sentimento di odio. Da quel momento Utterson cominciò a sorvegliare la porta della strada dei negozi al mattino prima delle ore d'ufficio a mezzogiorno quando c'era molto da fare il tempo era contato di notte sotto la luce della luna velata dalle nebbie della città con qualsiasi tempo e a tutte le ore affollate o solitarie l'avvocato era al suo posto di guardia se lui e il signor Hyde aveva pensato io sarò il signor Seek e alla fine la sua pazienza venne premiata era una bella notte asciutta l'aria gelida e le strade pulite come il pavimento di una sala d'abballo i lampioni non scossi dal vento disegnavano a intervalli regolari profili di ombra e di luce alle 10 con i negozi chiusi la strada era deserta e nonostante il diffuso brusio di Londra tutto intorno silenziosa si udivano di lontano i più piccoli suoni i rumori domestici provenienti dalle case si sentivano chiaramente su ambedue i lati della strada ogni viandante era preceduto di molto dal rumore dei propri passi Utterson era rimasto al suo posto di guardia alcuni minuti quando avvertì un passo strano e leggero che si avvicinava nel corso delle sue ispezioni notturne egli aveva avuto il tempo di abituarsi al curioso effetto con cui i passi di una persona sola anche quando è ancora molto lontana si stagliano nitidi nel vasto ovattato clamore della città e però mai prima di quel momento la sua attenzione era stata attratta in modo così preciso e vivo e fu con un forte superstizioso presentimento di successo che si ritirò nell'entrata del cortile i passi si avvicinarono rapidi e divendero improvvisamente più sonori all'imbocco della strada l'avvocato spiando dall'ingresso pote presto vedere con che tipo d'uomo aveva a che fare era piccolo vestito con grande sobrietà e il suo aspetto anche a quella distanza colpì molto sgradevolmente la sensibilità dell'osservatore si diresse deciso verso la porta attraversando la strada per fare più presto e mentre si avvicinava tirò fuori una chiave dalla tasca come si usa arrivando a casa Utterson si fece avanti e lo toccò sulla spalla mentre passava il signor Hyde presumo Hyde fece un piccolo balzo indietro e il respiro gli si spezzò in un sibilo ma la sua paura durò solo un momento e pur evitando di guardare in faccia l'avvocato rispose abbastanza freddamente sì sono Hyde cosa vuole ho visto che sta entrando rispose l'avvocato sono un vecchio amico del dottor Jekyll l'avvocato Utterson di Gaunt Street lei aveva probabilmente udito il mio nome e dato che la incontro così a proposito pensavo di poter entrare con lei non troverai il dottor Jekyll è fuori casa replicò Hyde infilando la chiave e poi ad un tratto ma sempre senza guardare lei come mi conosce domandò da parte sua disse Utterson vorrebbe farmi un favore volentieri rispose l'altro di che si tratta mi fa vedere la sua faccia chiese l'avvocato Hyde parve esitare poi come dopo una subitanea riflessione gli si mise di fronte con aria di sfida e i due si fissarono intensamente per alcuni secondi adesso sarò in grado di riconoscerla disse Utterson potrebbe essere utile sì disse Hyde di rimando è un bene che ci siamo incontrati e a proposito ecco il mio indirizzo e diede il numero di una strada di Soho dio mio pensò Utterson possibile che anche lui abbia pensato al testamento ma si tenne i suoi pensieri per sé solo borbottando un ringraziamento per l'indirizzo e ora rispose l'altro come fa a conoscermi dalle descrizioni fu la risposta le descrizioni di chi abbiamo degli amici in comune disse Utterson amici in comune fece ecco Hyde con la voce un po' roca chi sono Jekyll per esempio disse l'avvocato non le ha mai detto niente gridò Hyde in un salto di collera non pensavo che lei potesse mentire la prego disse Utterson questo linguaggio non mi piace l'altro scoppiò in una risata selvaggia e un attimo dopo con straordinaria velocità aveva aperto la porta ed era sparito nell'interno della casa l'avvocato rimase lì un momento dopo che Hyde lo aveva lasciato e pareva il ritratto dell'inquietudine poi cominciò lentamente a risalire la strada e si fermava ogni due passi portandosi la mano alla fronte in grande perplessità il problema che stava considerando mentre camminava apparteneva a un genere che raramente si riesce a risolvere Hyde era pallido e simile a un nano dava un'impressione di deformità senza nessuna visibile malformazione aveva un sorriso sgradevole si era comportato come un delinquente passando dalla timidezza all'impudenza la sua voce era suonata rauca mormorante e talvolta rotta tutti questi erano punti a suo sfavore ma anche considerati tutti insieme non bastavano a spiegare il disgusto fino allora sconosciuto la ripugnanza e la paura che Utterson provava nei suoi riguardi deve esserci qualcos'altro e gli disse perplesso c'è qualcosa di più sebbene non riesca a dargli un nome Dio mi perdoni quell'individuo non sembra quasi un essere umano qualcosa di trogloditico direi o sarà invece la vecchia storia del dottor Fell o è semplicemente l'irradiarsi all'esterno di un animo perfido tanto forte da trasformare anche l'involucro d'argilla è così penso perché o mio povero vecchio Harry Jekyll semmai ho visto il segno di Satana su una faccia l'ho visto su quella del tuo nuovo amico girato l'angolo della strada si apriva una piazza di belle vecchie di more adesso per la maggior parte decadute dall'antico splendore e affittate a camere e appartamenti ad individui di ogni sorta e condizione disegnatori architetti oscuri avvocati e agenti di imprese dalla dubbia attività una casa tuttavia la seconda dall'angolo era occupata da un solo inquilino Utterson si fermò davanti a questo edificio dall'aria ricca e confortevole benché ora fosse immerso nell'oscurità appena rischiarata da un fanale e bussò alla porta venne ad aprire un vecchio e distinto servitore il dottor Jekyll è a casa Poole chiese l'avvocato vado a vedere il signor Utterson disse Poole introducendo il visitatore in un grande e comodo ingresso dal basso soffitto col pavimento di mattonelle riscaldato come nelle case di campagna dal fuoco vivo di un caminetto e aridato da preziosi cassettoni di quercia vuole aspettare qui vicino al fuoco signore o devo farle luce nella sala da pranzo qui grazie disse l'avvocato e si avvicinò appoggiandosi all'alto parafuoco la sala dove adesso era rimasto solo era la preferita del dottore suo amico e Utterson stesso usava parlarne come della stanza più piacevole di tutta Londra ma quella sera egli continuava a rabbrividire il volto di Hyde si era insediato opprimente nella sua memoria sentiva cosa rara per lui nausea e disgusto per la vita triste e depresso gli parve di leggere una minaccia nel riverbero del fuoco sui lucidi cassettoni e nell'inquieto movimento dell'ombra sul soffitto si vergognò di sentirsi sollevato quando Poole venne sollecito a dirgli che il dottor Jekyll era uscito Poole ho visto il signor Hyde entrare dalla porta della vecchia sala di anatomia disse è una cosa regolare quando il dottor Jekyll è fuori casa del tutto regolare il signor Utterson rispose il domestico il signor Hyde ha la chiave il tuo padrone sembra avere molta fiducia in quel giovanotto Poole rispose l'altro meditabondo sì signore è proprio così disse Poole abbiamo tutti l'ordine di obbedirgli non credo di aver mai incontrato il signor Hyde vero? chiese Utterson oh certamente no signore non cena mai qui rispose il maggiordomo in realtà lo vediamo molto poco in questa parte della casa la maggior parte delle volte entra ed esce dal laboratorio bene buonanotte Poole buonanotte signor Utterson e l'avvocato uscì e si avviò verso casa con l'animo oppresso povero Harry Jekyll pensava il cuore mi dice che si trova in cattive acque erano sregolato da giovane molto tempo fa certamente ma la legge di Dio non conosce limiti e deve essere proprio così lo spettro di qualche vecchio peccato il cancro di qualche vergogna nascosta il castigo che arriva pede Claudio anni dopo che la memoria ha dimenticato e l'amore di se stessi ha fatto perdonare l'errore e l'avvocato terrorizzato da questa idea si mise a rimuginare sul proprio passato frugando in ogni angolo della memoria per il timore che lo spauracchio di qualche vecchia colpa potesse improvvisamente risorgere ma il suo passato era senza macchia pochi uomini potevano leggere nella propria vita con minore apprensione eppure egli si sentì un verme per tutte le cattive azioni che aveva commesse e si sentì risollevato e pieno di timorosa e sincera gratitudine pensando a quelle che era stato lì lì per commettere e poi aveva evitate allora tornando ai pensieri di prima ebbe un barlume di speranza questo signor Hyde a studiarlo bene pensò deve avere anche lui dei segreti dei neri segreti a giudicarlo dall'aspetto segreti in confronto ai quali i peggiori del povero Jekyll splenderebbero come la luce del sole le cose non possono andare avanti così mi si gela il sangue se penso a quell'individuo che si avvicina furtivo come un ladro al letto di Harry povero Harry che risveglio e che pericolo perché se questo Hyde sospetta l'esistenza del testamento può diventare impaziente di ereditare ah sì bisogna che mi metta all'opera se Jekyll mi lascia fare aggiunse se soltanto Jekyll mi lascia fare una volta ancora egli vide chiaramente proiettate nella sua mente le strane clausole del testamento capitolo 3 il dottor Jekyll era assolutamente tranquillo 15 giorni dopo per una fortunata combinazione il dottore invitò ad uno dei suoi piacevoli pranzi 5 o 6 vecchi compagni tutti uomini intelligenti e stimati e tutti buoni intenditori di vino e Utterson fece in modo di rimanere dopo che gli altri invitati se ne erano andati questa non era cosa nuova anzi era già accaduta molte volte perché se Utterson era amato era amato molto agli ospiti piaceva trattenere il taciturno avvocato quando i convitati più allegri e chiacchieroni avevano già il piede sulla porta di casa amavano starsene un poco in compagnia di quell'uomo non invadente godendosi la solitudine e riposando la mente nel suo fecondo silenzio dopo la fatica della forzata allegria a questa regola il dottor Jekyll non faceva eccezione era un uomo grande e ben fatto sui 50 anni dal viso liscio con un'ombra di scaltrezza forse ma anche con tutti i segni della capacità e della gentilezza e ora mentre sedeva all'altro lato del caminetto si poteva leggere nel suo sguardo un sincero e caldo affetto per Utterson è un po' di tempo che volevo parlarti Jekyll cominciò l'avvocato ti ricordi quel tuo testamento? un osservatore attento si sarebbe reso conto che l'argomento era sgradito ma il dottore lo accolse con disinvoltura mio povero Utterson e gli disse sei proprio sfortunato ad avermi per cliente non ho mai visto un uomo tanto sconvolto come lo sei tu per il mio testamento se non forse quel limitato o un pedante di Lennion di fronte a quelle che chiamò le mie eresie scientifiche oh lo so che è un buon diavolo non guardarmi male un'ottima persona e mi riprometto sempre di frequentarlo più spesso ma è limitato e pedante non c'è che dire un gigione ignorante e pedante mai un uomo mi ha deluso quanto Lennion lo sai che non l'ho mai approvato proseguì Utterson trascurando del tutto il nuovo argomento il mio testamento? sì certo che lo so disse il dottore un po' tagliente me l'hai già detto bene te lo dico un'altra volta continuò l'avvocato sono venuto a sapere una cosa sul giovane Hyde il grande bel volto di Jekyll divenne pallido fino alle labbra e gli occhi si cerchiarono di nero non voglio sentire altro disse pensavo fossimo d'accordo di evitare questo argomento ciò che ho saputo è abominevole disse Utterson questo non cambia niente tu non capisci la mia posizione replicò il dottore con un certo cambiamento di tono è una circostanza penosa Utterson la mia posizione è strana molto molto strana una di quelle faccende che non si possono sistemare parlandone Jekyll disse Utterson mi conosci sono un uomo a cui si può dare fiducia liberati il cuore confidati sono sicuro che saprò trarti fuori dai guai mio caro Utterson disse il dottore sei molto buono davvero molto buono e non trovo parole per ringraziarti ti credo pienamente mi fiderei di te più di qualsiasi uomo al mondo se potessi scegliere ma veramente non è come immagini e non è poi così grave è giusto perché il tuo animo si tranquillizzi ti dirò una cosa posso liberarmi di Hyde quando voglio ti do la mia parola e ti ringrazio ancora moltissimo e voglio aggiungere solo un'altra parola Utterson sicuro che non te la prenderai a male questa è una faccenda privata e ti prego di lasciarla stare Utterson riflette un po' guardando il fuoco non dubito che tu abbia perfettamente ragione disse infine alzandosi ma giacché abbiamo toccato questo argomento e per l'ultima volta spero continuò il dottore c'è una cosa che vorrei tu capissi ho veramente un grandissimo interesse per il povero Hyde so che lo hai visto me l'ha detto e ho paura che sia stato scortese ma sinceramente ho per quel giovane un grande grandissimo interesse e se io me ne andassi Utterson vorrei che tu mi promettessi di aiutarlo e di difendere i suoi diritti penso che lo faresti se sapessi tutto ma comunque mi sollevi di un gran peso se me lo prometti mentirei se dicessi che proverò mai simpatia per lui disse l'avvocato non ti chiedo questo insiste Jekyll poggiando la mano sul braccio dell'amico ti chiedo solo di agire secondo giustizia ti chiedo solo di aiutarlo per amor mio quando io non sarò più qui Utterson non poté trattenere un sospiro va bene disse te lo prometto capitolo 4 il delitto Cario quasi un anno dopo nel mese di ottobre del 1800 Londra trasalì alla notizia di un delitto di singolare ferocia reso ancora più clamoroso dall'alta posizione sociale della vittima i particolari erano pochi e sensazionali una cameriera che viveva sola in una casa non lontana dal fiume verso le 11 di sera era salita al piano di sopra per coricarsi benché verso il mattino la nebbia avesse avvolto la città la prima parte della notte era stata limpida e senza nuvole e la strada sulla quale si affacciava la finestra della ragazza era rischierata dalla luce della luna piena evidentemente essa aveva un animo assai romantico perché si sedette su un baule che stava proprio sotto la finestra e cominciò a sognare e fantasticare mai come ella poi disse tra fiotti di lacrime quando raccontò ciò che aveva visto mai si era sentita così in pace con gli uomini o aveva guardato al mondo con tanto ottimismo e mentre se ne stava lì seduta vide avvicinarsi lungo una strada un anziano signore di bell'aspetto e coi capelli bianchi e dalla parte opposta avanzava incontro a lui un altro signore molto basso al quale lì per lì ella non aveva prestato attenzione quando essi furono tanto vicini da potersi parlare e cioè proprio sotto gli occhi della ragazza il più anziano dei due si inchinò e si avvicinò all'altro con modi di grande gentilezza non sembrava che il motivo per cui gli si era rivolto fosse di grande importanza in realtà dai suoi gesti pareva che stesse semplicemente chiedendo un'informazione ma la luna gli illuminava il viso mentre parlava e alla ragazza piaceva guardarlo perché emanava da quel viso una gentilezza d'animo candida e di vecchio stampo e nello stesso tempo con qualcosa di nobile come una persona giustamente conscia e soddisfatta di sé il suo occhio si spostò poi sull'altro e fu sorpresa di riconoscere in lui un certo signor Hyde che una volta aveva fatto visita al suo padrone e per la quale ella aveva provato un certo ribrizzo aveva in mano un pesante bastone da passeggio col quale giocherellava e sembrava ascoltare con un'impazienza stento trattenuta e poi tutto ad un tratto esplose in un terribile accesso d'ira pestando il piede a terra brandendo il bastone e comportandosi a quanto disse la cameriera come un pazzo il vecchio gentiluomo fece un passo indietro e aveva l'aria molto sorpresa e un po' risentita e allora il signor Hyde si sfrenò del tutto e prese a bastonarlo finché quello si accasciò al suolo e subito con furia scimmiesca cominciò a calpestare la sua vittima menando una tempesta di colpi sotto i quali si udirono le ossa a spezzarsi mentre il corpo sobbalzava sul marciapiede all'orrore di tale vista e di tali suoni la cameriera svenne erano le due quando tornò in sé e chiamò la polizia l'assassino era fuggito da tempo ma lì in mezzo al vicolo ancora giaceva la sua vittima orribilmente maciullata il bastone che era servito a compiere il misfatto benché intagliato in qualche legno raro molto duro e pesante si era spezzato in due sotto la foga di quella crudeltà insensata e un pezzo era rotolato in un rigagnolo lì accanto l'altro senza dubbio se l'era portato via l'assassino addosso alla vittima furono trovati un portafogli e un orologio d'oro ma non biglietti da visita o altre carte tranne una busta sigillata e con franco bollo che probabilmente egli stava portando alla posta e che recava il nome e l'indirizzo dell'avvocato Utterson la lettera fu portata all'avvocato il mattino seguente prima ancora che egli si alzasse e non appena l'ebbe vista e gli furono narrate le circostanze del delitto tirò una solenne bestemmia non dirò niente prima di aver visto il cadavere disse potrebbe essere una faccenda molto seria abbiate la cortesia di aspettarmi mentre mi vesto con lo stesso grave atteggiamento consumò in fretta la colazione e si fece portare al commissariato dove il corpo era stato condotto appena entrò nella cella scosse il capo sì lo riconosco mi dispiace dire che questo è Sir Danvers Carreau buon dio signore esclamò l'ufficiale è mai possibile e un attimo dopo i suoi occhi si illuminarono di ambizione professionale questa faccenda farà un sacco di rumore disse forse lei potrà aiutarci a trovare quell'uomo e narrò brevemente quel che la cameriera aveva visto mostrando poi il bastone rotto Utterson era già rimasto sgomento sentendo il nome di Hyde ma quando il bastone gli fu messo dinanzi non ebbe più dubbi sebbene rotto e scheggiato lo riconobbe per uno che egli stesso aveva regalato molti anni prima a Henry Jekyll questo signor Hyde è una persona di bassa statura chiese la cameriera lo descrive come particolarmente piccolo e di aspetto particolarmente malvagio disse l'ufficiale Utterson riflette un momento poi alzando la testa se vuol venire con me nella mia carrozza disse penso di poterla condurre alla sua casa erano circa le nove ed era scesa la prima nebbia della stagione un gran velo color cioccolato era caduto dal cielo ma il vento alterava e spostava di continuo quel cumulo di vapori e così mentre la carrozza andava lentamente di strada in strada Utterson poteva vedere la luce del mattino che meravigliosamente variava di intensità e di colore un momento era scuro come alla fine della sera e un momento dopo splendeva un opulento color rosso bruno come la luce di una strana conflagrazione e poi per un attimo la nebbia si rompeva e un macilento raggio di luce balenava tra le turbinanti volute di vapore il lugubre quartiere di Soho visto sotto questi mutevoli barlumi con le sue strade fangose i suoi sudici passanti e i suoi lampioni che non erano mai stati spenti o erano stati appena riaccesi per combattere quel luttuoso ritorno dell'oscurità sembrò agli occhi di Atterson un ammasso di case di una città d'incubo i suoi pensieri inoltre erano quanto mai cupi e quando alzava lo sguardo sul suo compagno si rendeva conto di quel terrore della legge e dei suoi rappresentanti che a volte può assalire anche il più onesto degli uomini quando la vettura arrivò all'indirizzo indicato la nebbia diradò un poco e rivelò ad Atterson una strada sporca una mescita di gin una trattoria francese di infimo ordine una rivendita di giornali e di erbaggi da pochi soldi molti bambini laceri accalcati sulle soglie delle porte e molte donne di differenti nazionalità che passavano con la chiave in mano per andarsi a bere il bicchiere del mattino un momento dopo la nebbia è scesa di nuovo scura come un'ombra isolandolo da quegli equivoci dintorni questa era la casa del beniamino di Harry Jekyll di un uomo erede di un quarto di milione di sterline una vecchia dalla faccia d'avorio e i capelli color dell'argento venne ad aprire la porta aveva un'espressione diabolica corretta dall'ipocrisia ma le sue maniere erano eccellenti si disse questa era la casa del signor Hyde ma lui era fuori era venuto quella notte molto tardi ma se n'era riandato di nuovo dopo meno di un'ora non c'era niente di strano in questo le sue abitudini erano molto irregolari e spesso era assente per esempio essa lo aveva visto ieri dopo quasi due mesi che era stato via molto bene comunque vorremmo vedere le sue stanze disse l'avvocato e quando la donna cominciò a protestare che era impossibile sarà meglio che le dica chi è questa persona aggiunse è l'ispettore Newcomen di Scotland Yard un lampo di gioia piena d'odio apparve sul viso della donna ah è nei guai disse che cosa ha fatto Utterson e l'ispettore si scambiarono uno sguardo non sembra un personaggio molto ben voluto osservò l'ufficiale e adesso ci lasci dare un'occhiata in giro di tutta la casa abitata solo dalla vecchia il signor Hyde usava unicamente un paio di stanze ma queste erano arredate con sfarzo e buon gusto c'era una piccola dispensa piena di vino vasellame d'argento elegante biancheria da tavola alle pareti si notava un buon quadro dono pensò Utterson di Henry Jekyll che era un ottimo intenditore i tappeti infine erano soffici dai bei colori adesso però le stanze portavano i segni di un recente affannoso rovistamento i vestiti giacevano a terra con le tasche rovesciate c'erano cassetti aperti e nel caminetto un mucchio di grigia cenere come se molte carte vi fossero state bruciate da quei resti l'ispettore trasse il dorso di un libretto da segni verde che aveva resistito al fuoco dietro la porta trovarono l'altra metà del bastone e poiché ciò confermava i suoi sospetti l'ispettore si dichiarò soddisfatto una visita alla banca dove a nome dell'assassino erano depositate parecchie migliaia di sterline rese la sua soddisfazione completa può esserne sicuro signor avvocato disse Utterson l'ho nelle mie mani deve aver perso la testa altrimenti non avrebbe mai lasciato il bastone e soprattutto non avrebbe bruciato il libretto degli assegni perché il denaro è la vita per l'uomo non dobbiamo far altro che aspettarlo alla banca e spiccare il mandato di cattura quest'ultima cosa non fu però molto facile perché Hyde aveva pochi conoscenti o amici anche il padrone della cameriera lo aveva visto solo due volte la sua famiglia non fu mai rintracciata non era mai stato fotografato e i pochi che potevano descriverlo non erano affatto d'accordo come accade agli osservatori comuni solo su un punto essi concordavano e questo era il senso angoscioso e di indefinibile deformità che il fuggitivo lasciava in chi lo aveva visto capitolo quinto l'episodio della lettera era pomeriggio inoltrato quando Utterson si presentò alla porta di Jekyll Poole lo fece entrare subito lo condusse attraverso le cucine e un cortile che era stato una volta un giardino fino all'edificio conosciuto indifferentemente come il laboratorio o sala d'anatomia il dottor Jekyll aveva comprato la casa dagli eredi di un celebre chirurgo ed essendo i suoi interessi più nel campo della chimica che dell'anatomia aveva cambiato la destinazione del fabbricato in fondo al giardino era la prima volta che l'avvocato veniva ricevuto in quella parte dell'abitazione del suo amico osservò quindi con curiosità la nera struttura senza finestra e si guardò intorno con la spiacevole sensazione di essere un estraneo mentre attraversava il teatro una volta affollato di studenti pieni di passione e ora abbandonato nella desolazione e nel silenzio le tavole coperte dagli apparecchi chimici il pavimento cosparso di casse e paglia da imballaggio la luce che scendeva a fioca dalla cupola polverosa in fondo alla sala una rampa di scale conduceva a una porta foderata di panno rosso e attraverso di essa Utterson venne finalmente ricevuto nel gabinetto del dottore era questa una grande stanza piena di vetrine a muro e arredata fra l'altro con un grande specchio e un tavolo da lavoro tre finestre polverose protette da inferriate davano sul cortile il fuoco ardeva nel caminetto sulla mensola c'era una lampada accesa poiché una fosca caligine già gravava sulle case e lì vicino al calore della fiamma sedeva Jekyll mortalmente pallido non si alzò incontro al visitatore stese una mano gelata e gli diede il benvenuto con una voce diversa dal solito allora disse Utterson appena Poole li ebbe lasciati hai sentito la notizia il dottore ebbe un brivido la strellavano in piazza disse li ho sentiti dalla sala da pranzo una parola disse l'avvocato Cario era mio cliente ma anche tu lo sei e voglio sapere cosa devo fare non sarai stato tanto pazzo da nascondere quell'individuo Utterson giuro su Dio gridò il dottore giuro su Dio che non lo rivedrò mai più ti do la mia parola d'onore che l'ho fatta finita con lui per sempre è tutto finito e inoltre non vuole il mio aiuto tu non lo conosci come lo conosco io è al sicuro è completamente al sicuro prendi nota delle mie parole non si sentirà mai più parlare di lui l'avvocato ascoltò con aria cupa non gli piacevano i modi febbrili del suo amico sembri molto sicuro di lui disse e per il tuo bene spero che tu abbia ragione se si arrivasse a un processo potrebbe essere fatto il tuo nome sono assolutamente sicuro di lui rispose Jekyll la mia certezza si basa su motivi che non posso rivelare a nessuno ma c'è una cosa sulla quale potresti consigliarmi ho ricevuto una lettera e non so se devo mostrarla alla polizia preferirei lasciarla nelle tue mani Utterson tu giudicherai per il meglio ne sono sicuro ho molta fiducia in te hai paura suppongo che possa portare al suo arresto chiese l'avvocato no disse l'altro non posso dire che mi importi molto di cosa succederà a Hyde l'ho finita con lui stavo pensando alla mia reputazione che questa odiosa faccenda ha messo piuttosto in pericolo Utterson meditò un po' era sorpreso dall'egoismo dell'amico ma ne era anche confortato bene disse alla fine fammi vedere la lettera la lettera era scritta in una strana calligrafia verticale e firmata Edward Hyde diceva piuttosto concisamente che il benefattore dello scrivente dottor Jekyll le cui mille generosità egli aveva ripagate così indegnamente non doveva stare in pena per lui poiché aveva un modo di mettersi al sicuro sul quale poteva contare con certezza l'avvocato fu abbastanza contento di quella lettera poneva in miglior luce un'intimità che lo aveva lasciato dubbioso e fece ammenda con se stesso dei suoi passati sospetti hai la busta chiese l'ho bruciata rispose Jekyll senza pensare a quel che stavo facendo ma non aveva timbro postale la lettera è stata portata a mano posso tenerla e dormirci sopra chiese Utterson desidero che tu giudichi per me in tutto fu la risposta ho perso la fiducia in me stesso va bene ci penserò disse Utterson un'altra parola ancora fu hai da dettare le clausole del testamento riguardanti la tua scomparsa il dottore parve preso da un principio di svenimento serrò strette le labbra e annui lo sapevo disse Utterson aveva intenzione di ucciderti l'hai scampata bella ho avuto molto di più rispose il dottore solennemente ho avuto una lezione oddio Utterson che lezione ho avuto e per un momento si coprì la faccia con le mani andando via l'avvocato si fermò e scambiò due parole con Poole a proposito e gli disse oggi è stata recapitata a mano una lettera che aspetto aveva la persona che l'ha portata ma Poole affermò che era arrivata soltanto la posta normale e unicamente circolari aggiunse questa notizia rinnovò tutte le preoccupazioni di Utterson era evidente che la lettera era stata consegnata dalla porta del laboratorio forse era addirittura stata scritta nello studio e se la cosa stava in questi termini doveva essere giudicata differentemente e trattata con la massima prudenza mentre tornava a casa gli strilloni si sgolavano lungo i marciapiedi edizione speciale terrificante assassino di un membro del parlamento era l'orazione funebre di un cliente e di un amico e Utterson non poteva evitare una certa appreensione al pensiero che il buon nome di un altro amico potesse essere risucchiato nel gorgo dello scandalo egli avrebbe comunque dovuto prendere una decisione delicata e pur essendo abituato ad avere fiducia in se stesso cominciò a sentire il desiderio di un consiglio non era un consiglio da ottenere direttamente ma forse pensò avrebbe potuto procurarselo con qualche piccola astuzia poco dopo egli sedeva di lato al suo caminetto all'altro lato stava il signor Guest suo primo segretario e in mezzo a una ben calcolata distanza dal fuoco una bottiglia di un vino speciale rimasta ad invecchiare per anni nelle cantine della casa la nebbia ancora dormiva sulla città sommersa dove i lampioni luccicavano come carbonchi e attraverso l'opaca ovattata morbidezza di quelle nuvole cadute l'andriviene della vita continuava a scorrere nelle grandi arterie con un forte suono come di vento la stanza però era rallegrata dalla luce del fuoco nella bottiglia i fermenti del vino si erano disciolti da molto tempo la tinta imperiale si era fatta più morbida col passare degli anni così come i colori delle vetrate divengono col tempo più smaglianti e lo splendore dei caldi pomeriggi d'autunno era pronto a sprigionarsi dalle vigne sulle colline per disperdere le nebbie londinesi piano piano Utterson si rilassava a nessuno egli nascondeva meno i suoi segreti che al signor Guest e talvolta pensava di non averne tenuti per sé quanti avrebbe voluto Guest si era spesso recato a casa del dottore per affari conosceva Poole difficilmente poteva non aver sentito della familiarità di Hyde col dottor Jekyll poteva aver tratto delle sue conclusioni non era meglio dunque che vedesse una lettera che metteva quel mistero in giusta luce e soprattutto considerando che Guest era un grande studioso ed esperto di grafologia egli avrebbe ritenuto quel passo naturale e doveroso il segretario inoltre era un uomo saggio leggendo un documento così strano non avrebbe potuto evitare di fare un'osservazione e da tale osservazione Utterson poteva decidere il da farsi è una faccenda triste questa di Sir Danvers disse sì signore decisamente ha fatto impressione a moltissima gente rispose Guest quell'uomo naturalmente era pazzo vorrei conoscere la sua opinione su questo replicò Utterson ho un documento scritto di sua mano la cosa resti tra noi perché di preciso non so neanche cosa farne è proprio una brutta faccenda ecco questo è pane per i suoi denti l'autografo di un assassino con gli occhi scintillanti Guest si mise a sedere e studiò il documento con passione no signore disse non è pazzo ma ha una calligrafia strana e in ogni caso è uno strano scrittore aggiunse l'avvocato proprio in quel momento il domestico entrò con un biglietto è del dottor Jekyll signore chiese il segretario mi sembrava di conoscere la calligrafia è qualcosa di privato signor Utterson solo un invito a cena perché vuol vederlo un momento grazie signore il segretario mise due fogli uno vicino all'altro e ne confrontò accuratamente il contenuto grazie signore disse infine restituendoli entrambi è un autografo molto interessante ci fu una pausa durante la quale Utterson lottò con se stesso perché li ha confrontati Guest domandò a un tratto vede signore rispose il segretario c'è una somiglianza piuttosto singolare le due calligrafie in molti punti sono identiche solo diversamente orientate piuttosto strano disse Utterson proprio come lei dice piuttosto strano replicò il segretario vorrei che non si parlasse di questo biglietto capito disse l'avvocato certo signore disse il segretario capisco benissimo ma appena Utterson rimase solo quella notte chiuse il biglietto nella cassaforte dove giacque poi per sempre ma come pensava Harry Jekyll falsario per un assassino e il sangue gli si gelò nelle vene capitolo 6 grave incidente col dottor Lennion passò del tempo fu offerta una taglia di migliaia di sterline poiché la morte di Sir Danvers era considerata una pubblica offesa ma la polizia aveva perso le tracce di Hyde era scomparso come se non fosse mai esistito erano venuti alla luce molti episodi del suo passato e tutti disonorevoli qualcuno raccontò della sua crudeltà così fredda e insieme violenta della sua vita vergognosa dei suoi strani compagni dell'odio che sembrava aver circondato la sua carriera ma del suo stato presente non una parola da quando aveva lasciato la sua casa di Soho la mattina del delitto era semplicemente svanito e gradualmente con lo scorrere del tempo Utterson vide i propri timori placarsi e cominciò a sentirsi di nuovo più sereno la morte di Sir Danvers era a suo modo di vedere più che compensata dalla sparizione di Hyde ora che quell'influenza diabolica era venuta a meno per il dottor Jekyll cominciò una nuova vita uscì dalla reclusione riallacciò i rapporti con gli amici ridivenne il loro ospite ed anfitrione cordiale e mentre era sempre stato conosciuto per le sue opere di carità ora si distingueva anche per il suo attaccamento alla religione si occupava di molte cose stava all'aria aperta faceva del bene il suo viso cominciò ad aprirsi a illuminarsi come per un'intima consapevolezza del dovere compiuto e per più di due mesi il dottore visse in pace l'otto gennaio Utterson aveva cenato a casa del dottore con un piccolo gruppo di amici c'era anche Lenion e lo sguardo dell'ospite si era posato sull'uno e sull'altro come i vecchi tempi quando essi formavano un terzetto inseparabile il dodici gennaio e poi ancora il quattordici all'avvocato fu chiusa la porta in faccia il dottore si è chiuso in casa aveva detto pool e non riceve nessuno il quindici provò di nuovo e di nuovo fu respinto ed essendosi abituato negli ultimi due mesi a vedere l'amico praticamente ogni giorno questo suo ritorno all'isolamento lo riempì di tristezza la quinta sera trattenne Gesta cena con sé e la sesta si recò da Lenion qui almeno non fu respinto ma quando entrò rimase sconvolto dal cambiamento che l'aspetto del dottore aveva subito sul volto aveva scritta a chiare lettere una sentenza di morte quell'uomo di solito rubizzo era diventato pallido era dimagrito era visibilmente più calvo e più vecchio ma non furono tanto quei segni di repentina decadenza fisica che colpirono l'attenzione di Utterson quanto l'espressione degli occhi e un certo modo di fare che sembravano essere testimonianza di una mente stralunata da un ben radicato terrore non era verosimile che Lenion avesse paura della morte eppure Utterson fu tentato di formulare proprio questo pensiero già pensò è un medico deve conoscere il suo stato e sapere che i suoi giorni sono contati e il fatto di saperlo è più di quanto egli possa sopportare ma quando Utterson gli fece notare il suo brutto aspetto Lenion si dichiarò un uomo finito ho avuto un colpo terribile disse e non mi rimetterò mai più è questione di settimane bene la vita è stata piacevole io l'ho amata proprio così l'ho amata talvolta penso che se sapessimo tutto decisamente preferiremmo morire anche Jekyll è malato osservò Utterson l'hai visto? ma la faccia di Lenion cambiò alzò una mano tremante vorrei non vedere più il dottor Jekyll e non sentirne più parlare disse con voce alta e malferma ho chiuso con quella persona e ti prego di risparmiarmi qualsiasi allusione a uno che io considero morto Dio mio disse Utterson e poi dopo una pausa non posso far niente chiese siamo tre vecchi amici Lenion e non vivremo abbastanza per farcene degli altri non c'è niente da fare rispose Lenion chiedilo a lui non vuole vedermi disse l'avvocato questo non mi sorprende fu la risposta un giorno dopo la mia morte Utterson forse saprai tutta la verità su questa faccenda ma io non posso dirti niente adesso se vuoi sederti e parlare con me di altre cose per amoldercelo resta e fallo ma se non riesci a evitare questo maledetto argomento allora in nome di Dio va via perché non lo sopporto appena arrivato a casa Utterson scrisse a Jekyll lamentandosi di non essere più ricevuto e chiedendo una spiegazione di quell'infelice rottura con Lenion il giorno seguente ebbe una lunga risposta in tono spesso patetico e in alcuni punti misteriosa ed oscura la lite con Lenion era insanabile non do la colpa al nostro vecchio amico ma sono d'accordo con lui che non dobbiamo più vederci sono deciso a condurre d'ora in poi una vita di assoluta solitudine non devi sorprenderti né dubitare della mia amicizia se spesso la mia porta è chiusa perfino a te lasciami percorrere da solo il mio buio cammino ho attirato su di me un castigo e un pericolo che non posso neanche nominare se sono il più grande dei peccatori sono anche quello che soffre di più non avrei mai creduto che a questo mondo ci fosse posto per sofferenze e terrori così atroci c'è una sola cosa che puoi fare Utterson rendere più lieve questo destino cioè rispettare il mio silenzio Utterson era costernato l'oscura influenza di Hyde era stata cancellata il dottore era tornato alle vecchie occupazioni e alle vecchie amicizie una settimana prima il futuro gli sorrideva promettendo una vecchiaia serena e onorata e ora in un momento l'amicizia e la pace dell'animo e la sua intera esistenza andavano distrutte un cambiamento così totale e imprevedibile potevano indicarne la pazzia ma il comportamento e le parole di Lanyon facevano intendere che dovesse esserci una causa più nascosta una settimana dopo il dottor Lanyon si mise a letto e dopo neanche 15 giorni era morto la notte dopo il funerale che lo aveva riempito di tristezza Utterson chiusi a chiave la porta del suo studio e alla luce di una malinconica candela tirò fuori e pose davanti a sé una busta scritta dall'amico morto e chiusa col suo sigillo personale da consegnarsi a G.J. Utterson e a lui soltanto e da distruggersi senza leggerla nel caso egli muoia prima di me questa era l'enfatica sopra scritta e l'avvocato aveva paura di esaminare il contenuto ho seppellito un amico oggi pensava e se questo me ne facesse perdere un altro ma poi considerò la sua paura una mancanza di lealtà e ruppe i sigilli dentro c'era un'altra busta pure sigillata su cui era scritto da non aprirsi prima della morte o della scomparsa del dottor Henry Jekyll Utterson non poteva credere ai suoi occhi sì si trattava di scomparsa qui di nuovo come in quel pazzesco testamento che egli aveva da tanto tempo restituito al suo autore di nuovo c'era l'idea della scomparsa associata al nome di Henry Jekyll nel testamento questa idea era nata da un sinistro suggerimento di Hyde per uno scopo fin troppo chiaro ed orribile ma nello scritto di Lanyon che cosa significava? l'avvocato fu preso da una grande curiosità di non tener conto del divieto e andare fino in fondo a questo mistero ma l'onore professionale e la parola data all'amico morto costituivano un impegno assoluto e così il plico giacque nell'angolo più riposto della sua cassaforte una cosa è mortificare la curiosità un'altra domandarla ed è da chiedersi se da quel giorno Utterson desiderasse la compagnia dell'amico sopravvissuto con la stessa intensità di una volta pensava a lui con affetto ma i suoi desideri erano pieni di inquietudini e di paure andò a trovarlo naturalmente ma forse provò sollievo quando gli fu negato di vederlo nel suo intimo preferiva parlare con Poole sulla soglia di casa circondato dall'aria aperta e dai suoni della città piuttosto che entrare in quel luogo di volontaria reclusione e parlare col suo imperscrutabile prigioniero Poole non aveva in verità notizie molto buone da dargli il dottore pareva si era confinato più che mai nello studio sopra il laboratorio e qualche volta vi dormiva anche era diventato molto triste e taciturno non leggeva più sembrava che un gran peso gli opprimesse l'animo Utterson si abituò talmente al tono sempre uguale di queste notizie che a poco a poco finì per diradare la frequenza delle sue visite capitolo settimo l'episodio della finestra una domenica Utterson ed Enfield facevano la solita passeggiata e accadde loro di passare ancora una volta per la strada dei negozi e quando arrivarono di fronte alla porta si fermarono tutti e due a guardarla bene disse Enfield quella storia perlomeno è finita non sentiremo più parlare del signor Hyde spero di no disse Utterson ti ho mai detto che una volta l'ho visto e ho provato il tuo stesso sentimento di repulsione? era impossibile vederlo senza provare repulsione rispose Enfield e a proposito devi aver pensato che ero proprio un asino a non sapere che questo è un ingresso secondario della casa di Jekyll è stata in parte colpa tua se l'ho scoperto ah così l'hai scoperto disse Utterson bene in questo caso possiamo entrare nel cortile e dare un'occhiata alle finestre devo dirti la verità sono molto in pena per il povero Jekyll e sento che la presenza di un amico potrebbe fargli bene anche da fuori il cortile era freddo e un po' umido e invaso avanti tempo dal buio del crepuscolo benché il cielo alto sopra di loro splendesse ancora della luce del tramonto delle tre finestre quella in mezzo era semi aperta e seduto lì vicino a respirare l'aria con un'infinita tristezza nello sguardo come un prigioniero senza speranza Utterson vide il dottor Jekyll hey Jekyll gridò spero che tu stia meglio sono molto giù Utterson rispose Jekyll in tono lugubre molto giù grazie a Dio non durerà ancora molto stai troppo in casa disse l'avvocato dovresti uscire un po' riattivare un po' la circolazione come facciamo noi questo è mio cugino il signor Enfield il dottor Jekyll andiamo prendi il cappello e vieni con noi a fare due passi sei molto buono sospirò l'altro mi piacerebbe molto ma no no è assolutamente impossibile non ne ho il coraggio però sono veramente molto contento di vederti Utterson è proprio un grande piacere ti direi di salire insieme al signor Enfield ma questo posto non è affatto accogliente ebbene allora disse l'avvocato pieno di bontà la miglior cosa che possiamo fare è restare qui giù e parlare con te da dove siamo è proprio ciò che non osavo proporvi rispose il dottore con un sorriso ma non aveva neanche finito di pronunciare queste parole che il sorriso fu cancellato di colpo dalla sua faccia e al suo posto si disegnò un'espressione di tale abietto terrore e disperazione che ai due spettatori si gelò il sangue nelle vene lo videro solo un attimo perché immediatamente la finestra venne richiusa ma quell'attimo era stato sufficiente essi si voltarono e lasciarono il cortile senza una parola sempre in silenzio attraversarono la strada e soltanto quando arrivarono in una via più grande lì vicino dove anche la domenica c'era un po' di vita Utterson si volse a guardare il suo compagno erano entrambi pallidi e avevano negli occhi il medesimo orrore Dio ci perdoni Dio ci perdoni disse Utterson ma Enfield scosse soltanto la testa molto gravemente e ripresero il cammino di nuovo in silenzio capitolo ottavo l'ultima notte una sera dopo cena Utterson era seduto vicino al caminetto e con grande sorpresa ricevette una visita di Poole buon dio Poole che cosa mai la conduce qui gridò e poi guardandolo meglio che cos'è che la preoccupa forse il dottore è malato signor Utterson disse Poole c'è qualcosa che non va si sieda e prenda un bicchiere di vino disse l'avvocato e adesso con calma mi dica esattamente cosa vuole lei conosce le abitudini del dottor Jacky il signore disse Poole e sa che si rinchiude nelle sue stanze beh adesso è di nuovo chiuso nello studio e la cosa non mi piace signore vorrei morire se mi piace signor Utterson signore ho paura via caro Poole disse l'avvocato cerchi di essere più chiaro di che cosa ha paura è una settimana che ho paura rispose Poole ancora ignorando la domanda e non ce la faccio più l'aspetto del domestico giustificava ampiamente le sue parole il suo modo di fare era gravemente alterato e tranne il momento in cui aveva per la prima volta espresso il suo terrore non aveva mai guardato Utterson in faccia anche adesso sedeva col suo bicchiere di vino intatto lo sguardo volto in basso a un angolo del pavimento non ce la faccio più ripete andiamo disse l'avvocato capisco che lei ha qualche seria ragione Poole capisco che c'è qualcosa di molto grave provi a dirmi di che si tratta penso che ci sia stato un delitto disse Poole con voce sorda un delitto gridò Utterson già terrorizzato e quindi portato ad irritarsi che delitto che cosa vuol dire non oso spiegarle signore fu la risposta ma la prego venga con me e si renderà conto lei stesso Utterson rispose semplicemente alzandosi e prendendo cappello e cappotto ma osservò con meraviglia quanto grande fosse il sollievo che si dipinse sul volto del maggior domo e con altrettanta meraviglia vide che il vino non era stato neanche toccato quando egli lo posò sul tavolo pronto a seguirlo era una tempestosa fredda notte di marzo con una luna pallida adagiata obliqua nel cielo come se il vento l'avessero vesciata e nuvole come alghe fluttuanti che disegnavano un velo di afano il vento impediva di parlare e raggelava il sangue sulla faccia sembrava anche che avesse spazzato via i passanti dalle strade facendole insolitamente vuote ad Utterson pareva di non avere mai visto quella parte di Londra così deserta egli l'avrebbe preferita diversa mai in vita sua aveva avvertito così acuto il desiderio di vedere e toccare i suoi simili e per quanto si sforzasse di reagire era nato in lui uno schiacciante presentimento di calamità la piazza quando vi arrivarono era piena di vento e di polvere e i sottili alberi del giardino sbattevano contro la cancellata Poole che per tutto il percorso era stato avanti di un passo o due si fermò in mezzo al marciapiede e nonostante l'aria gelida si tolse il cappello e si asciugò la fronte con un fazzoletto rosso ma per quanto avesse camminato in fretta non erano gocce prodotte dalla fatica quelle che ora egli tergeva bensì l'umore stillante dall'angoscia che lo soffocava perché la sua faccia era bianca e la sua voce quando parlò aspra e spezzata bene signore disse ci siamo e Dio voglia che non succeda nulla di male amen Poole disse l'avvocato il domestico bussò in modo molto guardingo la porta fu aperta con la catena e una voce da dentro chiese sei tu Poole sì sono io disse Poole aprite la porta entrarono l'ingresso era vivamente illuminato e c'era un gran fuoco e presso il caminetto raggruppati come un branco di pecore stavano tutti i servitori della casa uomini e donne alla vista di Atterson la cameriera proruppe in un pianto isterico e la cuoca gridò Dio sia benedetto è il signor Atterson e gli corse incontro come se volesse abbracciarlo che c'è che c'è perché siete tutti qui disse l'avvocato con stizza tutto ciò è assolutamente sciocco e sconveniente il vostro padrone non ne sarebbe affatto contento hanno tutti paura disse Paul seguì un profondo silenzio nessuno protestava solo la cameriera non riuscì a trattenersi e riprese a piangere forte piantala le disse Paul in un tono feroce che indicava quanto lui stesso avesse i nervi tesi e infatti quando la ragazza aveva così all'improvviso levato i suoi lamenti tutti erano sobbalzati e si erano voltati verso la porta interna con la stessa espressione ansiosa e piena di paura e ora continuò il maggiordomo rivolgendosi allo sguattero portami una candela dobbiamo agire alla svelta quindi pregò Atterson di seguirlo e fece strada verso il retro del giardino adesso signore disse cammini più piano che può voglio che lei possa udire senza essere udito e si ricordi signore se per caso lui le dicesse di entrare non vada i nervi di Atterson a questo inatteso avvertimento furono talmente scossi da fargli quasi perdere il controllo di sé ma ritrovò il suo coraggio e seguì il maggiordomo nel laboratorio attraversarono la sala di anatomia piena di recipienti e di bottiglie e giunsero ai piedi della scala qui Poole gli fece cenno di fermarsi da un lato e di ascoltare mentre egli posando la candela e facendo evidentemente ricorso a tutte le sue energie salì le scale e bussò con mano incerta sul panno rosso che foderava la porta del gabinetto l'avvocato Atterson signore chiede di vederla chiamò e intanto ancora una volta fece energici segni all'avvocato di prestare orecchio una voce rispose dall'interno digli che non posso vedere nessuno disse in tono lamentoso grazie signore disse Poole con una nota di trionfo nella voce e riprendendo la candela condusse Atterson attraverso il cortile nella grande cucina dove il fuoco era spento e gli scarafaggi corrivano sul pavimento signore gli disse guardando Atterson negli occhi era quella la voce del mio padrone sembra molto cambiata rispose l'avvocato pallidissimo ma ricambiando lo sguardo di Poole cambiata beh sì penso proprio di sì disse il maggiordomo sono vent'anni che sto in casa del dottor Jekyll come posso ingannarmi sulla sua voce no signore il mio padrone non c'è più non c'è più da otto giorni quando l'abbiamo udito gridare invocando il nome di Dio e chi è lì dentro al suo posto e perché resti lì è una cosa che grida vendetta al cielo signor Atterson questa storia è molto strana Poole è spaventosa di lei rispose Atterson mordendosi le dita supponiamo che sia come lei pensa supponiamo che il dottor Jekyll sia stato assassinato cosa potrebbe indurre l'assassino a restare è una cosa del tutto incredibile assurda vedo signor Atterson che è difficile convincerla ma io ci riuscirò disse Poole deve sapere che durante tutta l'ultima settimana lui o quella cosa che vive nello studio ha continuato a piangere giorno e notte chiedendo una certa medicina che non gli va mai bene qualche volta lo faceva il dottore voglio dire di scrivere gli ordini su un foglio di carta e di buttarli sulla scala la settimana scorsa non ha fatto altro nient'altro che fogli di carta e la porta chiusa e persino i pasti che noi lasciavamo lì venivano ritirati quando nessuno poteva vedere ebbene signore ogni giorno sì e anche due o tre volte al giorno abbiamo avuto ordini e lamentele e io sono stato mandato di urgenza da tutti i farmacisti della città e ogni volta che tornavo indietro con quella roba arrivava un altro pezzo di carta su cui era scritto di restituirla perché non era pura e un altro ordine a una ditta diversa quella droga era desiderata fino alla disperazione signore a qualunque cosa serva ha ancora uno di quei fogli chiese hatterson pool cercò in tasca e tirò fuori un biglietto tutto spiegazzato che hatterson avvicinandolo alla candela esaminò attentamente esso diceva il dottor jackie lo sequa ai signori mo gli assicura che tutto il loro ultimo campione è impuro e assolutamente inservibile per le sue presenti necessità nell'anno 1800 il dottor jackie ne acquistò una quantità piuttosto rilevante dai signori mo ora li prega di farne ricerca con il massimo scrupolo e nel caso ne trovassero della stessa qualità li prega di mandargliene immediatamente la spesa non è un ostacolo la cosa è di importanza vitale per il dottor jackie fino a questo punto la lettera aveva un tono abbastanza normale ma qui con un improvviso scatto della penna l'emozione dello scrivente era straripata per amor di dio aggiungeva trovatemene un po' della vecchia è una strana lettera disse hatterson e poi con asprezza come mai è aperta il commesso di mo era furioso e me la ributtò indietro come se fosse spazzatura questa è indubbiamente la calligrafia del dottore non le pare riprese hatterson mi pare che lo sia disse il servitore piuttosto seccamente e poi con voce diversa ma che importanza ha la calligrafia disse io l'ho visto visto ripeté hatterson ebbene si disse pool è successo così entrai improvvisamente dal giardino nel teatro anatomico probabilmente era egli era uscito per cercare quella sua droga o quel che è ma insomma la porta dello studio era aperta e lui era lì in fondo alla stanza e frugava tra i recipienti alzò gli occhi quando entrai cacciò una specie di grido e scappò su nello studio io lo vidi un minuto soltanto ma i capelli mi si rizzarono in testa come a culei signor hatterson se quello era il mio padrone perché aveva una maschera sul viso se era il mio padrone perché ha gridato come un topo ed è fuggito via lontano da me io l'ho servito per molto tempo e ora l'uomo smise di parlare e si passò una mano sulla faccia sono tutte circostanze molto strane disse hatterson ma comincio a intravedere un barlume io penso pool che il suo padrone sia stato colpito da una di quelle malattie che torturano e deformano chi ne soffre ed ecco per quel che posso capirne l'alterazione della sua voce ecco perché la maschera è l'allontanamento degli amici ecco il suo violento desiderio di avere quella droga nella quale il poveretto spera di trovare la guarigione voglia il dio che egli non abbia a essere disingannato questa è la mia spiegazione è molto triste pool è terribile pensarci ma è semplice e naturale è logica e ci libera da molte paure esagerate signore disse il maggiordomo coprendesi di un pallore gelido quella cosa non era il mio padrone ecco la verità il mio padrone e qui si guardò intorno e cominciò a bisbigliare è un uomo alto e ben fatto e quello era poco più che un nano Utterson fece per protestare oh signore gridò pool crede che non riconosca il padrone dopo vent'anni crede che non sappia dove arriva con la testa nel vano della porta dello studio dove l'ho visto ogni mattina della mia vita no signore quella cosa con la maschera non era assolutamente il dottor Jekyll Dio sa cos'era ma non era il dottor Jekyll e il mio cuore sa che è stato compiuto un delitto pool rispose l'avvocato se lei dice questo sarà mio dovere assicurarmene per quanto io desideri rispettare i sentimenti del dottore per quanto io sia confuso da questa lettera che sembra provare che egli è ancora in vita considero mio dovere sfondare quella porta ah signor Utterson questo sì che è parlare gridò il maggiordomo e adesso viene il secondo problema riprese Utterson chi la deve sfondare? lei e io signore rispose pool con fermezza molto ben detto riprese l'avvocato e qualsiasi cosa succeda sarà mia responsabilità assicurare che lei non ci vada in mezzo c'è un'ascia nella sala d'anatomia continuò pool e lei potrebbe prendere l'attizzatoio della cucina l'avvocato prese quel rozzo pesante strumento e lo soppesò si rende conto pool disse guardando in su che lei e io stiamo per metterci in una posizione pericolosa? può proprio dirlo signore rispose il maggiordomo allora sarà bene essere franchi disse l'altro nessuno di noi due ha detto fino in fondo quello che pensa invece dobbiamo parlarci chiaro quella figura mascherata che ha visto l'ha riconosciuta? ebbene signore quell'essere è scappato così in fretta ed era tutto piegato che non potrei giurarci fu la risposta ma se volete sapere se era il signor Hyde beh sì penso che fosse lui vede era all'incirca della stessa altezza e aveva lo stesso passo veloce e leggero e poi chi altro avrebbe potuto entrare dalla porta del laboratorio? lei non ha dimenticato signore che al tempo del delitto egli aveva ancora la chiave ma questo non è tutto non so signor Utterson se lei ha mai incontrato il signor Hyde sì disse l'avvocato ho parlato con lui una volta allora deve sapere come tutti noi altri che quell'uomo aveva qualcosa di strano qualcosa che colpiva in modo particolare non so esattamente come dire signore qualcosa di freddo e sottile che penetrava fin nel midollo delle ossa io stesso ho provato qualcosa del genere disse Utterson proprio così signore rispose Poole ebbene quando quella cosa mascherata saltò come una scimmia fra gli apparecchi di chimica e andò a rintanarsi nello studio sentì un brivido gelato che mi correva giù per la schiena so che questo non prova niente signor Utterson sono abbastanza istruito per capirlo ma un uomo ha le sue sensazioni e io potrei giurare sulla Bibbia che quello era il signor Hyde già già fece l'avvocato temo anch'io la stessa cosa ah sì quel legame nato nel male non poteva generare altro che male davvero io la credo Poole credo che il povero Harry sia stato ucciso e credo che il suo assassino a che scopo Dio solo sa sia ancora nascosto nella stanza della sua vittima bene noi faremo vendetta chiami Bradshaw il domestico accorse al richiamo pallidissimo e nervoso si calmi Bradshaw disse l'avvocato so che siete tutti in stato di grande tensione ma ora è nostro intendimento porvi fine Poole e io forzeremo la porta dello studio in ogni caso ho le spalle abbastanza larghe per assumermi tutta la responsabilità intanto cerchiamo di non dimenticare niente nel caso che il malfattore cerchi di scappare dal retro lei vada con il ragazzo all'angolo della casa con un paio di buoni randelli piazzatevi alla porta del laboratorio vi diamo dieci minuti per raggiungere i vostri posti appena Bradshaw se ne fu andato Utterson guardò l'orologio e ora Poole raggiungiamo i nostri disse e tenendo l'attizzatoio sotto il braccio lo precedette nel cortile le nuvole portate dal vento avevano coperto la luna ed era completamente buio il vento che si rompeva in soffi e raffiche in quel meandro di edifici faceva vacillare la fiamma della candela che illuminava il loro cammino finché giunsero nel teatro anatomico dove si sedettero silenziosi ad aspettare Londra mormorava tutti intorno ma lì vicino la quiete era rotta soltanto dal suono di un passo che si muoveva avanti e indietro sul pavimento dello studio continuerà a camminare così tutto il giorno signore mi sbigliò pool e la maggior parte della notte solo quando arriva un nuovo campione dalla farmacia si calma un po' ah la cattiva coscienza è un brutto nemico da sconfiggere ah signore c'è sangue orrendamente versato in ogni suo passo ma ascolti ancora un po' più vicino ascolti col cuore signor Utterson e mi dica è questo il passo del dottor Jekyll i passi risuonavano leggeri e strani e con un certo ritmo benché così lenti erano assai differenti dall'andatura pesante e sonora di Henry Jekyll Utterson sospirò è solo questo che si riesce a sentire chiese pool scosse la testa una volta disse una volta l'ho sentito piangere piangere? come? disse l'avvocato sentendo un improvviso brivido d'orrore come una donna o un'anima perduta disse il maggiordomo ma veni via con un groppo in gola e stavo per piangere anch'io i dieci minuti erano quasi trascorsi pool prese l'ascia da sotto una balla di paglia la candela fu posta sul tavolo vicino perché facesse luce durante l'assalto si avvicinarono col fiato mozzo al punto dove quel passo andava ancora su e giù su e giù nel silenzio della notte jekyll gridò hatterson a voce altissima voglio vederti si fermò un attimo ma non ci fu risposta ti avverto lealmente abbiamo dei sospetti jekyll io devo vederti e ti vedrò con le buone o con le cattive con il tuo consenso o con la forza hatterson disse la voce per l'amor di dio abbi pietà ah questa non è la voce di jekyll è quella di hyde gridò hatterson pool giù la porta pool vibrò l'ascia con tutta la sua forza il colpo scosse tutto l'edificio e la porta felpata di rosso stridette sui cardini un grido lacerante di puro terrore animale uscì dallo studio di nuovo l'ascia si alzò e di nuovo il legno gemette e l'intelaiatura della porta cominciò a cedere quattro volte il colpo si abbatté ma il legno era duro e i cardini perfettamente costruiti e soltanto al quinto colpo la serratura saltò e la porta si frantumò sul tappeto gli assalitori spaventati dalla loro stessa violenza e dal silenzio che ne era seguito si fermarono un attimo e spiarono all'interno lo studio giaceva in silenzio alla quieta luce di una lampada nel caminetto crepitava il fuoco la teiera cantava il suo flebile ritornello uno o due cassetti erano aperti le carte sullo scrittoio apparivano in ordine e vicino al fuoco un tavolino era apparecchiato per il tè una stanza assolutamente tranquilla si sarebbe detto se non fosse stato per gli apparecchi di chimica assolutamente comune a Londra di notte ma proprio in mezzo alla stanza giaceva il corpo di un uomo spaventosamente contorto e ancora scosso dai fremiti essi si avvicinarono in punta di piedi lo voltarono in su e videro il volto di Edward Hyde indossava vestiti troppo grandi per lui vestiti che sarebbero stati giusti per il dottore i muscoli della faccia ancora si contraevano in una sembianza di vita ma la vita se n'era andata e dalla fiala rotta che egli stringeva in mano e dal forte odore di acido prussico che esalava nell'aria Utterson capì che stava guardando il cadavere di un suicida siamo arrivati troppo tardi disse amaramente sia per salvare che per punire Hyde è andato a render conto dei suoi delitti a noi non rimane altro che trovare il corpo del dottor Jekyll gran parte del fabbricato era occupato dalla sala di anatomia che prendeva quasi tutto il pian terreno ed era illuminato dall'alto e dallo studio che costituiva il piano superiore da un lato e guardava sul cortile un corridoio congiungeva il teatro anatomico con la porta sulla strada e con questa lo studio comunicava mediante una rampa di scale separata vi erano inoltre alcune oscure stanzette e una spaziosa cantina essi esaminarono a fondo tutti questi luoghi per le piccole stanze era sufficiente un'occhiata poiché erano tutte vuote e a giudicare dalla polvere che ristagnava sulle porte nessuno le apriva da molto tempo la cantina invece era piena del più incredibile ciarpame che risaliva per lo più ai tempi in cui la casa era abitata dal chirurgo ma quando aprirono la porta si resero conto dell'inutilità di ulteriori ricerche un grigio intrico di ragnatele che per anni aveva sigillato l'entrata cadde infatti ai loro piedi in nessun luogo vera traccia di Henry Jekyll vivo o morto Paul batte il piede sui lastroni del corridoio deve essere seppellito qui disse prestando orecchio alla diversità del suono potrebbe anche essere fuggito disse Utterson e si voltò ad esaminare la porta sulla strada era chiusa e lì vicino sul pavimento trovarono la chiave già coperta di ruggine pare che non sia stata usata negli ultimi tempi osservò l'avvocato usata fece ecco Paul ma signore non vede che è rotta proprio come se qualcuno ci fosse saltato sopra sì disse Utterson e anche il punto dove è rotta si è arrugginito i due uomini si guardarono con un brivido di paura questo è troppo Paul disse l'avvocato torniamo nello studio salirono la scala in silenzio rivolsero al cadavere uno sguardo rapido e pieno d'orrore e cominciarono ad esaminare con maggiore attenzione tutto quel che era nello studio su un tavolo berrono le tracce di un'operazione chimica e vari misurini contenenti una specie di sale bianco come preparati per un esperimento che l'infelice non avesse potuto portare a termine questa è la droga che gli portavo sempre disse Paul e mentre pronunciava queste parole la teiera bollì con un rumore che li fece trasalire questo li condusse vicino al focolare dove la poltrona era comodamente disposta e il vassoio del tè era apparecchiato a portata di mano con lo zucchero già nella tazza sul ripiano del caminetto c'erano diversi libri uno giaceva aperto vicino al vassoio e Utterson scoprì con grande sorpresa che si trattava di un'opera religiosa sulla quale Jekyll si era più volte espresso con grande rispetto e che ora era annotata di sua mano con orrende bestemmie continuando l'ispezione della stanza essi arrivarono alla specchiera nelle profondità della quale guardarono con involontario terrore ma essa era girata in modo da riflettere soltanto i bagliori rosati che giocavano sul soffitto il fuoco che scintillava ripetendosi in centinaia di immagini nelle vetrine e i loro volti pallidi e spaventati fermi a guardare questo specchio deve aver visto cose assai strane mormorò Poole e sicuramente niente è più strano che un oggetto come questo nel suo studio disse l'avvocato con lo stesso tono di voce che cosa mai Jekyll si interruppe trasalendo a questo pensiero ma poi vinse la propria debolezza che cosa mai Jekyll poteva farsene è quel che mi chiedo anch'io disse Poole si avvicinarono quindi alla scrivania dove fra le carte disposte in ordine spiccava una grande busta su essa era scritto di mano del dottore il nome di Utterson l'avvocato l'aprì e parecchi allegati caddero a terra il primo era un testamento redatto negli stessi bizzarri termini di quello che egli aveva restituito al dottore sei mesi prima doveva servire come testamento appunto in caso di morte e come atto di donazione in caso di scomparsa ma al posto del nome di Edward Hyde l'avvocato lesse con indescrivibile stupore il nome di John Gabriel Utterson e gli guardò Poole poi di nuovo il documento infine l'assassino morto steso sul tappeto io perdo la testa disse l'ha avuto in mano tutti questi giorni certo non aveva motivo di amarmi doveva essere furioso di vedersi spodestato e non ha distrutto questo documento poi prese l'altra carta era una breve nota scritta ancora da Jekyll e con la data in testa oh Poole gridò l'avvocato era qui vivo quest'oggi non possono essersi disfatti di lui in un tempo così breve deve essere ancora vivo deve essere fuggito ma perché fuggito e come e in questo caso possiamo arrischiarci a render noto questo suicidio oh Dio dobbiamo essere prudenti temo che potremmo ancora coinvolgere il dottor Jekyll in qualche tremenda catastrofe perché non la legge signore chiese Poole perché ho paura rispose l'avvocato gravemente voglia a Dio che non ve ne sia motivo così dicendo avvicinò il foglio e lesse quanto segue mio caro Utterson quando leggerai queste righe io sarò scomparso in quali circostanze non mi è possibile prevedere ma il mio istinto e tutta questa mia indefinibile situazione mi dicono che la fine è sicura e verrà presto va dunque e leggi prima il racconto che Lenion mi disse di aver messo nelle tue mani e se vuoi saperne di più passa la confessione del tuo indegno e infelice amico Henry Jekyll c'era un terzo allegato chiese Utterson eccolo signore disse Poole e gli diede un grosso pacchetto sigillato in più punti l'avvocato se lo mise in tasca sarà meglio non dire niente di questo documento se il dottor Jekyll è fuggito o è morto dobbiamo almeno salvare il suo nome adesso sono le 10 devo andare a casa e leggere questo incartamento in pace ma sarò di ritorno prima di mezzanotte e allora avvertiremo la polizia uscirono chiudendo a chiave la porta del teatro anatomico Utterson lasciò i servi ancora riuniti attorno al fuoco dell'ingresso e si avviò faticosamente verso il suo ufficio per leggere i due racconti che ora avrebbero finalmente chiarito quel mistero capitolo 9 il racconto del dottor Lenion il 9 gennaio quattro giorni fa ricevetti con la posta della sera una raccomandata del mio collega e vecchio compagno di scuola Henry Jekyll ne fui molto sorpreso perché non avevamo l'abitudine di tenere rapporti di corrispondenza non solo avevo visto Jekyll e cenato con lui la sera prima e non riuscivo ad immaginare nulla di tanto formale fra noi da giustificare una raccomandata il contenuto della lettera non fece che aumentare la mia sorpresa ecco quel che verrà scritto 10 dicembre caro Lenion tu sei uno dei miei più vecchi amici e se talvolta abbiamo avuto delle divergenze su questioni scientifiche non ricordo almeno da parte mia che il nostro affetto abbia mai subito increnature non c'è mai stato un giorno nel quale se tu mi avessi detto Jekyll il mio onore la mia vita la mia ragione dipendono da te io non avrei sacrificato la mia mano sinistra per aiutarti Lenion il mio onore la mia vita la mia ragione sono totalmente nelle tue mani se questa notte mi abbandoni sono perduto dopo questa premessa tu puoi supporre che debba chiederti qualcosa di disonorevole giudica tu stesso voglio che tu rimandi tutti gli impegni di stasera sì anche se tu fossi chiamato al capezzale di un imperatore prendi una carrozza a meno che la tua non sia già alla porta e con questa lettera in mano per poterla consultare viene diritto a casa mia Paul il mio maggiordomo ha già ricevuto ordini lo troverai ad aspettarti insieme ad un fabbro dovete forzare la porta del mio studio poi devi entrare da solo devi aprire la vetrina contrassegnata E sulla sinistra rompere la serratura se fosse chiusa e prendere con tutto il suo contenuto così come sta il quarto cassetto dall'alto o che è lo stesso il terzo dal basso nel terribile stato d'angoscia in cui sono ho una paura morbosa di darti delle indicazioni sbagliate ma anche se sono in errore puoi riconoscere il cassetto giusto dal suo contenuto delle polveri una fiala e un quaderno d'appunti ti prego di portare questo cassetto esattamente come sta alla tua casa di Cavendish Square questa è la prima parte del piacere che ti chiedo ora passiamo alla seconda dovresti essere di ritorno se ti muovi appena ricevuta questa mia molto prima di mezzanotte ma preferisco lasciarti questo margine non solo per timore di uno di quegli ostacoli che non si possono prevedere né prevenire ma anche perché per quel che rimane da fare è da preferirsi un'ora nella quale i tuoi domestici siano già a letto a mezzanotte dunque ti chiedo di essere solo nella tua sala di consultazione di fare entrare in casa tua tu personalmente un uomo che si presenterà a mio nome e di consegnargli il cassetto che avrai portato con te dal mio studio a questo punto il tuo ruolo sarà finito e ti sarai guadagnato la mia eterna gratitudine cinque minuti più tardi se insisterai per avere una spiegazione capirai che tutto questo è per me di capitale importanza e se tu trascurassi anche uno solo particolare per quanto fantastico appaia potresti avere sulla coscienza la mia morte o il naufragio della mia ragione sono sicuro che non prenderai alla leggera questo mio appello mi manca il cuore e mi trema la mano al solo pensiero di una simile eventualità pensa a me in questo momento in un posto sconosciuto travagliato da una nera angoscia inesprimibile a parole eppure ben consapevole che se tu mi servirai puntualmente i miei guai svaniranno come una vecchia storia aiutami caro Lenion e salva il tuo amico Henry Jekyll Postcriptum avevo già sigillato la presente quando un nuovo terrore si è impadronito del mio animo è possibile che il servizio postale mi tradisca e che questa lettera non giunga nelle tue mani prima di domani mattina in questo caso caro Lenion fai la mia commissione quando ti è più comodo nel corso della giornata e di nuovo aspetta il mio inviato a mezzanotte per allora potrebbe già essere troppo tardi e se la notte passerà senza che avvenga nulla saprai di aver visto per l'ultima volta Henry Jekyll leggendo questa lettera mi convinsi che il mio collega era pazzo ma finché ciò non fosse provato senza possibilità di dubbio mi sentì obbligato a fare quello che chiedeva meno ne capivo di quel pasticcio meno ero nella posizione di giudicare dell'importanza della cosa e un appello in quei termini non poteva essere trascurato senza grave responsabilità mi alzai dunque da tavola presi una carrozza e mi diressi subito a casa di Jekyll il maggiordomo stava aspettando il mio arrivo aveva ricevuto con lo stesso corriere una lettera raccomandata con istruzioni e subito aveva mandato a cercare un fabbro e un carpentiere gli operai arrivarono mentre ancora stavamo parlando e tutti insieme andammo verso la sala anatomica del vecchio dottor Denman dalla quale come senz'altro saprai si accede direttamente allo studio di Jekyll la porta era molto forte la serratura resistentissima il carpentiere dichiarò che se era necessario forzare avrebbe dovuto faticare molto producendo anche molti danni e il fabbro era vicino alla disperazione ma quest'ultimo era molto abile e dopo un lavoro di due ore la porta si aprì la vetrina contrassegnata con la lettera E non era chiusa a chiave tirai fuori il cassetto lo riempii con della paglia lo avvolsi in un telo e lo portai a Cavendish Square qui procedetti ad esaminare il contenuto le polveri erano composte abbastanza accuratamente ma non con l'esattezza di un chimico era chiaro che Jekyll stesso le aveva manufatturate in privato e quando aprì una delle bustine trovai quel che mi sembrò lì per lì un semplice sale cristallino di color bianco la fiala che esaminai subito dopo era piena circa fino a metà di un liquido rosso sangue dall'odore molto penetrante che mi sembrò contenere fosforo e qualche etere volatile quanto agli altri ingredienti non riuscii a capire di che si trattasse il quaderno era un normale blocco da appunti e conteneva poco più che una serie di date queste coprivano un periodo di parecchi anni ma osservai che le annotazioni si interrompevano circa un anno fa e molto bruscamente qui e là alla data era aggiunta una breve nota normalmente non più di una singola parola doppio che ricorreva forse sei volte su un totale di parecchie centinaia di annotazione e una volta seguito da molti punti esclamativi fallimento completo tutto questo pure citando la mia curiosità mi diceva ben poco di definitivo una fiala dei sali gli appunti di una serie di esperimenti che come molte troppe ricerche di Jekyll non avevano portato ad alcun risultato pratico come poteva la presenza di quegli oggetti in casa mia influire sull'onore la ragione o la vita del mio stravagante collega se il suo inviato poteva andare in un posto perché non poteva andare in un altro e anche ammettendo l'esistenza di qualche ostacolo perché mai dovevo ricevere quell'uomo in segreto più riflettevo più andavo convincendomi di avere per le mani un caso di malattia mentale e pur avendo disposto che la servitù andasse a coricarsi mi armai di una vecchia pistola per potermi difendere nel caso fosse stato necessario la mezzanotte era appena suonata su Londra quando udì i bussare alla porta con grande cautela andai personalmente ad aprire e mi trovai di fronte un uomo piccolo appiattito contro le colonne del portico viene da parte del dottor Jekyll chiesi fece cenno di sì con un gesto impacciato e quando lo invitai ad entrare non obbedì prima di essersi girato a scrutare nell'oscurità della piazza c'era un poliziotto non lontano che avanzava con la lanterna accesa e a quella vista il visitatore ebbe un fremito e si affrettò ad entrare questi particolari mi colpirono confesso sgradevolmente e mentre lo seguivo nella gran luce del gabinetto di consultazione tenevo la mano pronta sull'arma qui alla fine ebbi modo di vederlo chiaramente non lo avevo mai incontrato prima questo era certo era piccolo come ho già detto fu inoltre colpito dalla sconcertante espressione del suo viso dalla notevole combinazione di grande agilità muscolare ed evidentissima debolezza di costituzione e infine ma non fu la cosa che mi colpì di meno dallo strano malessere causautomi dalla sua vicinanza tale malessere era come una sensazione di freddo incipiente accompagnato da un rallentamento dei battiti del polso in quel momento pensai a una idiosincrasia ad una avversione personale e mi meravigliai soltanto dell'acutezza dei sintomi ma in seguito ebbi ragione di credere che il motivo di quell'avversione giacesse nel profondo della natura umana e che nascesse da qualcosa di assai più nobile che il sentimento dell'odio questa persona che aveva fin dal primo momento della sua apparizione destato in me quel che posso definire soltanto una curiosità piena di disgusto era vestita in un modo che avrebbe reso ridicolo qualsiasi uomo normale i suoi abiti infatti pur essendo di fattura elegante e sobria erano enormemente grandi per lui i pantaloni gli penzolavano sulle gambe ed erano arrotolati in fondo per evitare che strusciassero in terra la vita della giacca gli arrivava sotto i fianchi e il bavero gli si allargava fin sulle spalle ma strano a dirsi questo comico abbigliamento non mi faceva ridere affatto anzi quel che vera di anormale stravolto nella personalità della creatura che ora mi stava di fronte qualcosa che colpiva sorprendeva e repelleva sembrava essere rafforzato da quest'altra bizzarria e accordarvisi perfettamente cosicché al mio interesse per la natura e il carattere dell'uomo si aggiungeva una forte curiosità di sapere della sua origine della sua vita della sua fortuna e posizione nel mondo tutte queste osservazioni anche se a metterle su carta occupano tanto spazio affiorarono in realtà in pochi secondi il mio ospite era infatti in preda ad una cupa eccitazione lo ha trovato gridò lo ha trovato e la sua frenesia era tale che arrivò a prendermi per un braccio cercando di scuotermi lo spinsi indietro quando mi aveva toccato un brivido di freddo mi era sceso nelle vene la prego signore dissi lei dimentica che non ho ancora il piacere di conoscerla perché non si siede e dandogli l'esempio mi sedetti io stesso sulla mia poltrona abituale sforzandomi di trattarlo allo stesso modo di un paziente per quanto la tarda ora la natura delle mie preoccupazioni e l'orrore che provavo per lui me lo permettevano le chiedo scusa a dottor Lennion rispose abbastanza civilmente quello che dice è giustissimo la mia impazienza mi ha fatto dimenticare l'educazione vengo qui su richiesta del dottor Henry Jekyll per una faccenda di una certa importanza e se ho ben capito si fermò portandosi una mano alla gola vidi nonostante i suoi modi controllati che stava lottando contro un attacco isterico se ho ben capito un cassetto ma a questo punto ebbi pena della tensione nervosa del mio ospite e forse fui anche indulgente con la mia grande curiosità eccolo lì signore dissi indicando il cassetto che giaceva sul pavimento dietro una tavola ancora coperta dal telo fece un balzo in quella direzione poi si fermò e si portò una mano al cuore potevo dire udire i suoi denti stridere nella stretta convulsa delle mascelle e il suo viso era così spettrale che temetti per la sua vita e per la sua ragione si calmi dissi mi rivolse uno spaventoso sorriso e con la forza della disperazione strappò via il telo alla vista del contenuto emise un gemito di immenso sollievo così forte che rimasi pietrificato e un attimo dopo con la voce di nuovo sotto controllo mi chiese ha un bicchiere graduato? mi alzai con un certo sforzo e gli diedi ciò che domandava mi ringraziò con un sorriso versò qualche goccia del liquido rosso e aggiunse una delle polveri la mistura che era all'inizio di colore rossastro cominciò mentre i cristalli si scioglievano ad assumere una tinta più vivida poi si fece effervescente e sprigionò piccole nubi di vapore improvvisamente e nello stesso momento l'ebollizione finì e la miscela divenne color porpora scuro poi si mutò di nuovo lentamente in un verde acquoso il mio ospite che aveva assistito a questa metamorfosi con grande attenzione sorrise posò il bicchiere sulla tavola e si voltò verso di me guardandomi con aria indagatrice e ora disse concludiamo vuole essere saggio? vuole un buon consiglio? vuol permettere che io prenda questo bicchiere e me ne vada dalla sua casa senza ulteriori spiegazioni? oppure la curiosità ha raggiunto un grado di violenza incontrollabile? pensi prima di rispondere perché sarà fatto secondo la sua decisione secondo quel che decide lei resterà come era prima né più ricco né più saggio a meno che la coscienza di aver aiutato un uomo in preda ad un'angoscia mortale non possa essere considerato un arricchimento dell'anima oppure oppure nell'altro caso un nuovo campo del sapere e nuove vie alla fama e al potere le saranno aperte qui in questa stanza in questo istante e la sua vista sarà affolgorata da un prodigio tale da scuotere l'incredulità di satana signore dissi io simulando una freddezza che era ben lontano dal possedere veramente lei parla per enigmi e forse non si meraviglierà se le dico che io l'ascolto senza molta convinzione ma sono andato troppo lontano sulla strada di rendere dei servizi inspiegabili per fermarmi ora prima di vedere la fine va bene rispose il mio ospite Lenion ricorda il tuo giuramento quello che sta per accadere è sotto il vincolo del segreto della nostra professione e adesso tu che per tanto tempo sei rimasto aggrappato alle concezioni più ristrette e materialistiche tu che hai negato le virtù della medicina trascendentale tu che hai deriso chi ne sapeva più di te guarda si portò il bicchiere alle labbra e beve d'unfiato seguì un grido e gli barcollò vacillò si aggrappò alla tavola tenendovisi stretto guardandosi intorno con gli occhi iniettati di sangue la bocca aperta ansimante e mentre assistevo a questa specie di agonia avvenne mi parve un cambiamento e gli sembrava gonfiarsi la sua faccia diventò improvvisamente nera i leninamenti si alterarono e si fusero e un momento dopo io ero balzato in piedi e indietreggiavo fino al muro alzando un braccio come per proteggermi da quel prodigio la mente sommersa dal terrore oh Dio urlai oh Dio ancora e ancora perché lì davanti ai miei occhi pallido e sconvolto mezzo svenuto e annaspando con le mani nel vuoto come uno che torni dalla morte lì stava Henry Jekyll quel che mi narrò nell'ora seguente non so convincermi a scriverlo ho visto ciò che ho visto ho udito ciò che ho udito e la mia anima se ne è ammalata eppure ora che quella vista è svanita dai miei occhi domando a me stesso se ci credo e non posso rispondere la mia vita è scossa fin nelle radici il sonno mi ha abbandonato un terrore mortale incombe su di me a tutte le ore del giorno e della notte e sento che i miei giorni sono contati e che debbo morire e tuttavia morirò incredulo quanto alla turpitudine morale che quell'uomo mi ha svelato sia pure fra lacrime di pentimento non posso neppure ritornarvi con la memoria senza provare un moto d'orrore dirò solo una cosa Atterson e se riuscirai a crederla sarà più che sufficiente l'individuo che irruppe in casa mia quella notte era per confessione dello stesso Jekyll conosciuto col nome di Hyde e in ogni angolo del paese gli si dava la caccia per l'assassinio di Kerrio firmato Hestey Lennion Capitolo decimo Completa relazione del caso scritta da Henry Jekyll Sono nato nell'anno 1800 una grande ricchezza insieme con eccellenti doti naturali una naturale inclinazione al lavoro e il desiderio di essere rispettato dai più saggi e buoni tra i miei simili pareva dovesse garantirmi un futuro brillante e onorevole in realtà il peggiore dei miei difetti era un temperamento irrequieto e allegro che per molti uomini ha significato la felicità ma che io trovavo difficilmente conciliabile col mio imperioso desiderio di andare a testa alta e di tenere in pubblico un contegno più grave del comune Nacque così l'abitudine di nascondere i miei piaceri e quando raggiunsi una maggiore maturità e cominciai a guardarmi intorno e a considerare la mia carriera e la mia posizione nel mondo ero ormai completamente assuefatto a una profonda duplicità di vita Molti si sarebbero addirittura vantati delle stravaganze di cui ero colpevole ma dati gli alti traguardi che mi ero proposto io le consideravo e le nascondevo con un senso di vergogna quasi morboso Era quindi più l'esigente natura delle mie aspirazioni che non una particolare degradazione a farmi come ero e a separare in me come con una frattura assai più profonda che nella maggior parte degli uomini le regioni del bene e del male che dividono e insieme compongono la duplice natura dell'uomo In tale situazione ero portato a riflettere profondamente e ostinatamente a questa dura legge della vita che sta all'origine della religione ed è una delle più copiose fonti di tormento Pur conducendo una duplice vita non ero affatto un'ipocrita ambedue le mie nature erano assolutamente spontanee Non ero meno me stesso quando mi sfrenavo privo d'ogni inibizione e sprofondavo nella vergogna che quando lavoravo alla luce del sole ad allargare le mie cognizioni e ad alleviare i dolori e sofferenze avvenne così che la direzione dei miei studi scientifici orientati completamente verso il mistico e il trascendentale mutò e proiettò una vivida luce sulla consapevolezza della lotta perenne che si svolgeva tra le mie membra giorno per giorno con tutti e due i lati della mia intelligenza quello morale e quello intellettuale mi avvicinai alla verità la cui parziale scoperta doveva portarmi a un così spaventoso naufragio che l'uomo non è in verità uno ma duplice dico duplice perché il mio attuale stato di conoscenza non oltrepassa questo limite altri seguiranno altri mi supereranno sulla stessa strada e azzardo l'ipotesi che l'uomo sarà infine conosciuto come un conglomerato di svariate entità incoerenti e indipendenti l'una dall'altra io da parte mia per la natura della mia vita mi sono mosso senza deviazioni in una direzione e in quella soltanto è stato dal punto di vista morale e sulla mia stessa persona che ho imparato a riconoscere il totale primordiale dualismo dell'uomo ho visto che due nature lottavano nella mia coscienza e che a ragione potevo dire di essere l'una o l'altra ma questo si doveva al fatto che ero radicalmente tutte e due e da moltissimo tempo assai prima che il corso delle mie scoperte scientifiche avesse cominciato a suggerirmi la più remota possibilità di un tale miracolo avevo imparato ad accarezzare come un meraviglioso sogno ad occhi aperti l'idea di separare questi elementi se ciascuno di essi mi dicevo potesse essere chiuso in entità separate la vita sarebbe priva di tutto ciò che è insopportabile il malvagio se ne andrebbe per la sua strada liberato dalle aspirazioni e dal rimorso nascenti dal confronto col suo gemello buono e il giusto percorrerebbe tranquillo e sicuro il suo nobile sentiero compiendo il bene che è il suo piacere e non più esposto al disonore e al castigo per i soprassalti di esterne forze diaboliche era la maledizione dell'umanità che quegli elementi contrastanti fossero così legati insieme che nell'agonizzante matrice della coscienza questi due gemelli nemici dovessero essere perpetuamente in guerra com'era dunque possibile separarli? ero a questo punto delle mie riflessioni quando come ho già detto un'esperienza di laboratorio cominciò a illuminare sia pur indirettamente la questione cominciai ad accorgermi più profondamente di quanto non fosse mai stato fatto della tremante immaterialità della vaporosa inconsistenza di questo corpo apparentemente così solido nel quale siamo rinchiusi scoprì che certi agenti chimici avevano il potere di scuotere e strappar via quel rivestimento di carne come una raffica di vento spazza via le tende di un padiglione per due buone ragioni non mi inoltrerò nei particolari scientifici di questa mia confessione primo perché ho imparato che l'uomo deve sopportare per sempre il peso e il destino della sua vita quando tentiamo di disfarcene esse ci ritornano addosso con nuova e più terribile violenza secondo perché come il mio racconto renderà ahimè fin troppo evidente le mie scoperte non erano complete basti dire che io riconobbi il corpo dato mi dalla natura come una semplice emanazione e irradiazione di certi poteri del mio spirito non solo lavorai anche a comporre una sostanza che potesse annullare la supremazia di tali poteri sostituendoli con una seconda forma e un secondo aspetto non meno naturali per me giacché erano l'espressione e recavano il segno degli elementi più bassi della mia anima esitai a lungo prima di sottoporre questa teoria ad una verifica pratica sapevo bene che rischiavo la morte perché una droga così potente da controllare e scuotere l'essenza stessa dell'identità poteva per una minima dose in più o il minimo errore di tempo nel somministrarla annullare del tutto quel tabernacolo immateriale che con essa io volevo trasformare ma la tentazione di una scoperta così singolare e profonda vinse alla fine la paura da molto tempo avevo preparato la pozione acquistai subito da una ditta farmaceutica una grossa quantità di un sale speciale che era l'ultimo ingrediente necessario ai miei esperimenti e alla fine di una notte maledetta mescolai gli elementi li guardai bollire e fumare insieme nel bicchiere e quando l'ebollizione ebbe termine in un impito di coraggio bevi seguirono i dolori più atroci sentivo le ossa rotte una nausea mortale e l'animo in preda a un orrore che certo non è più grande nell'ora della nascita o della morte poi questa agonia cominciò rapidamente a calmarsi e tornai in me come uscissi da una grave malattia c'era adesso qualcosa di strano nelle mie sensazioni qualcosa di indescrivibilmente nuovo e proprio per questa novità incredibilmente dolce mi sentivo più giovane più leggero più felice sentivo anche che dentro di me si era prodotto uno sconvolgimento della ragione un fiotto di immagini sensuali che correvano in disordine nella mia fantasia come la rapida di un mulino l'annullamento di qualsiasi limite ed obbligo una sconosciuta ma non innocente libertà dell'anima al primo soffio di questa nuova vita seppi di essere più malvagio dieci volte più malvagio venduto come uno schiavo alla mia primigenia feroce un pensiero che in quel momento mi fece gioire e delirare come un vino tesi in alto le braccia esultante per la freschezza di queste sensazioni e così facendo mi resi conto improvvisamente che la mia statura si era ridotta non vi erano specchi a quell'epoca nella mia stanza quello che sta ora nell'angolo mentre scrivo fu portato più tardi e proprio allo scopo di sorvegliare queste trasformazioni la notte intanto era svanita nel mattino un mattino nero ma vicinissimo a generare la luce del giorno tutta la casa era immersa nel sonno più profondo decisi inebriato come ero dalla speranza e dal trionfo di avventurarmi sotto le nuove spoglie fino alla mia camera dal letto attraversai il cortile e le costellazioni pensai mi guardarono con meraviglia ero la prima creatura di una specie che la loro veglia perenne scopriva in quell'attimo strisciai lungo i corridoi straniero nella mia casa e arrivato nella mia stanza vidi per la prima volta apparire Edward Hyde devo adesso parlare solo in teoria dicendo non cose che so ma che ritengo più che probabili la parte crudele della mia natura alla quale avevo ora trasmesso il potere di darmi forma era meno forte e meno sviluppata della parte buona della quale mi ero appena spogliato nel corso della mia vita che era stata dopo tutto per nove decimi una vita di sforzi di virtù e di autodisciplina essa era stata molto meno esercitata e messa alla prova ecco perché penso accadde che Edward Hyde fosse tanto più piccolo più sottile e più giovane di Henry Jekyll come la bontà splendeva nell'aspetto dell'uno così la perversità era ampiamente e chiaramente scritta sulla faccia dell'altro la perversione inoltre che io credo tuttora essere la parte mortale dell'uomo aveva lasciato su quel corpo l'impronta della deformità e della decadenza eppure quando guardai quell'orrendo idolo nello specchio non ebbe alcun moto di ripugnanza ma piuttosto un fremito di soddisfazione quello ero pur sempre io sembrava naturale ed umano era quella ai miei occhi un'immagine più che vitale dello spirito sembrava più realizzata e individuale che non quella forma divisa imperfetta che fino allora avevo considerato la mia e fin qui avevo senza dubbio ragione ho osservato che quando avevo le sembianze di Edward Hyde nessuno poteva avvicinarmi senza una visibile istantanea diffidenza fisica questo presumo accadeva perché tutti gli esseri umani con cui veniamo a contatto sono un miscuglio di bene e di male mentre Edward Hyde solo fra tutta l'umanità era puro male sostai non più di un momento allo specchio il secondo esperimento quello risolutivo dovevo ancora compierlo restava da vedere se avevo perduto la mia identità senza possibilità di ritorno e dovevo fuggire prima che facesse luce da una casa che non era più la mia corsi di nuovo al laboratorio di nuovo preparai la miscela e la bevi di nuovo soffri gli spasimi della disintegrazione e tornai in me con il carattere la statura e il volto di Henry Jekyll quella notte ero giunto al bivio fatale mi fossi avvicinato alla mia scoperta con animo più nobile avessi rischiato l'esperimento ancora sotto il dominio di asperazioni giuste e generose tutto avrebbe potuto andare diversamente e da quelle agonie di morte e di nascita sarei uscito come un angelo e non come un demonio la droga non aveva effetto discriminante non era né diabolica né divina soltanto apriva le porte della prigione della mia natura e come i prigionieri di Filippi quel che era chiuso dentro fuggì fuori a quel tempo la mia virtù vacillava la mia crudeltà tenuta ad esta dall'ambizione era allerta e pronta a cogliere l'occasione quel che ne nacque fu Edward Hyde perciò pur avendo due temperamenti e due diversi aspetti uno era interamente perverso e l'altro era ancora il vecchio Henry Jekyll quell'incongruo miscuglio che ormai disperavo di poter emendare e migliorare a quel tempo non avevo ancora vinto la mia avversione per l'aridità di una vita di studi talvolta avevo voglia di divertirmi e poiché i miei piaceri erano a dir poco non dignitosi e non solo ero molto conosciuto e godevo di grande stima ma mi avvicinavo all'età matura questo dissidio nella mia vita mi rendeva di giorno in giorno più insofferente fu per questa ragione che il mio nuovo potere mi tentò fino a farmi schiavo non avevo che da bere la pozione per liberarmi di colpo del corpo dell'illustre professore e assumere come un pesante mantello quello di Edward Hyde quest'idea mi faceva sorridere mi sembrava divertente a quel tempo e feci i miei preparativi con la massima attenzione presi e ammobiliai la casa di Soho dove poi Hyde fu cercato dalla polizia e assunsi come governante una donna che sapevo discreta e senza scrupoli d'altra parte annunciai ai miei domestici che un certo signor Hyde e lo descrissi aveva piena libertà e disponibilità della mia casa e per evitare equivoci mi mostrai spesso nel nuovo aspetto per renderlo familiare scrissi poi quel testamento che tu disapprovasti tanto se mi fosse accaduto qualcosa di grave nella persona di Henry Jekyll avrei potuto assumere definitivamente quella di Edward Hyde senza danni finanziari e messomi così al sicuro come credevo da ogni parte cominciai ad approfittare della strana immunità che mi dava la mia posizione gli uomini nel passato assoldavano dei bravi per compiere i loro delitti mentre essi e la loro reputazione se ne stavano al sicuro io sono stato il primo a far questo per soddisfare i miei piaceri sono stato il primo che potesse vivere in pubblico ammantato della rispettabilità dell'uomo superiore e poi in un momento come uno scolaro potesse liberarsi dell'involucro e tuffarsi a capofitto nel mare della libertà per me nel mio impenetrabile mantello la sicurezza era totale pensa non esistevo neanche mi bastava entrare dalla porta del laboratorio mescolare e trangugiare in un secondo o due la bevanda che tenevo sempre pronta e qualunque cosa avesse fatto Edward Hyde sarebbe svanito come il vapore del fiato su uno specchio e al suo posto tranquillamente a casa occupato a regolare la lampada notturna dello studio sarebbe stato Henry Jekyll un uomo che poteva permettersi di ridere d'ogni sospetto i piaceri che mi affrettai a cercare sotto il mio travestimento erano come ho già detto poco decorosi non vorrei usare un termine più severo ma nelle mani di Edward Hyde cominciarono presto a diventare mostruosi quando rientravo da quelle scorribande restavo spesso meravigliato e sconvolto dalla depravazione dell'altro me stesso questo fratello che avevo evocato dalla mia stessa anima solo perché soddisfacesse i suoi piaceri era una creatura perfida e degenerata ogni suo atto ogni suo pensiero nascevano dall'egoismo godeva di torturare gli altri e beveva questo piacere con avidità bestiale era spietato fatto di pietra Henry Jekyll restava talvolta esterrefatto davanti alle azioni di Edward Hyde ma la situazione era fuori da ogni legge ordinaria e rallentava insidiosamente la vigilanza della coscienza dopo tutto era Hyde e solo Hyde il colpevole Jekyll non era peggiore di prima si risvegliava ai suoi buoni istinti apparentemente immutato spesso quando era possibile si sforzava persino di rimediare al male fatto da Hyde e così la sua coscienza si assopiva non ho intenzione di entrare nei dettagli delle infamie che ho commesso ancora oggi ammetto a mala pena ciò che ho fatto voglio soltanto indicare gli avvenimenti e i fatti successivi che facevano intravedere vicino il mio castigo una volta ci fu un incidente che non avendo avuto conseguenze menzionerò solo di sfuggita un atto di crudeltà verso una bambina suscitò contro di me l'ira di un passante che riconobbi poi l'altro giorno essere tuo cugino a lui si unirono un dottore e i familiari della bambina vi furono momenti nei quali ebbi a temere per la mia vita e alla fine per placare il loro anche troppo giusto risentimento Edward Hyde dovette portarli fino alla porta del laboratorio e risarcirli con un assegno firmato da Henry Jekyll questo pericolo fu facilmente eliminato per il futuro aprendo un conto in un'altra banca a nome dello stesso Edward Hyde e quando alterando la mia calligrafia con una pendenza contraria al corsivo ebbi fornito il mio doppio di una firma credetti di essere ormai al di là del corso del destino circa due mesi prima dell'uccisione di Sir Danvers ero uscito per una delle mie avventure ero tornato a tarda ora e mi ero svegliato con addosso una sensazione quanto mai strana inutilmente guardavo intorno a me inutilmente vidi il bel mobilio e le ampie proporzioni della mia stanza sulla piazza inutilmente riconobbi l'affoggia delle cortine del letto e il disegno dell'incorniciatura di Mogano qualcosa mi suggeriva insistentemente che non ero dove ero che non mi ero svegliato dove mi pareva di essere bensì nella piccola stanza di Soho dove ero solito dormire nella persona di Edward Hyde sorrisi di me stesso e mettendo a lavoro le mie doti psicologiche cominciai pigramente ad analizzare gli elementi di tale illusione ogni tanto mentre pensavo mi lasciavo riprendere dal caldo torpore del mattino ero ancora in questo stato di dormiveglia quando in un momento in cui ero più sveglio gli occhi mi caddero sulla mano ora la mano di Henry Jekyll come avrai spesso notato era decisamente la mano di un dottore grande ferma bianca e ben fatta ma la mano che adesso nella gialla luce del mattino londinese vedevo giacere mezza chiusa sulle lenzuola era magra nodosa d'un terreo pallore e fittamente ombreggiata di peli era la mano di Edward Hyde devo essere rimasto a fissarla per quasi mezzo minuto del tutto stordito e attonito per la sorpresa prima che il terrore mi scoppiasse in petto improvviso e crudele come un'esplosione di cimbali e balzando dal letto mi precipitai allo specchio quel che vidi mi ghiacciò il sangue sì mi ero coricato Henry Jekyll e mi ero svegliato Edward Hyde mi chiesi come un simile fatto potesse spiegarsi e poi in un nuovo accesso di terrore come potevo porvi rimedio era già mattino inoltrato i domestici erano svegli tutti i miei preparati erano nel laboratorio un lungo tragitto da dove me ne stavo impietrito dall'orrore dovevo percorrere due rampe di scale il corridoio il cortile e la sala di anatomia certo potevo coprirmi la faccia ma che sarebbe servito se non potevo nascondere il cambiamento di statura mi ricordai allora con un grande dolcissimo sollievo che i domestici si erano ormai abituati agli andirivieni dell'altro me stesso rapidamente indossai meglio che potevo i vestiti della mia misura e attraversai la casa Bradshaw sgranò gli occhi e indietreggiò vedendo il signor Hyde a quell'ora e conciato in quel modo ma dieci minuti più tardi il dottor Jekyll aveva ripreso le sue sembianze e sedeva a tavola scuro in volto facendo finta di mangiare la colazione l'appetito mi era scomparso davvero quell'inesplicabile incidente quel rovesciamento delle mie esperienze precedenti sembrava scrivere come il dito sul muro di Babilonia le lettere della mia condanna e cominciai a riflettere assai più seriamente che nel passato ai casi e alle possibilità della mia doppia esistenza quella parte di me che avevo il potere di evocare negli ultimi tempi era stata tenuta spesso in esercizio e alimentata mi era parso qualche tempo prima che il corpo di Edward Hyde fosse cresciuto in statura e che quando avevo quella forma una più generosa corrente di vita scorresse nelle mie vene cominciai così ad avvertire il pericolo che se ciò si fosse protratto molto a lungo l'equilibrio della mia natura ne sarebbe rimasto sconvolto per sempre il potere delle metamorfosi volontarie si sarebbe annullato e l'indole di Edward Hyde sarebbe diventata irrevocabilmente la mia il potere della droga non si era dimostrato sempre uguale una volta ai primi tempi della mia avventura l'esperimento era completamente fallito da allora ero stato obbligato in più di un'occasione a raddoppiare la dose e una volta con rischio mortale a triplicarla e queste incertezze rappresentavano fino ad allora l'unica ombra al mio successo ora tuttavia particolarmente alla luce dell'incidente di quella mattina ero obbligato a constatare che mentre all'inizio la difficoltà stava nel liberarsi del corpo di Jekyll negli ultimi tempi gradualmente ma in modo deciso accadeva proprio il contrario tutto sembrava quindi indicare che stavo lentamente perdendo il mio originario e migliore me stesso e mi stavo lentamente identificando con il secondo e peggiore a questo punto avvertii la necessità di scegliere tra i due le mie due nature avevano la memoria in comune ma tutte le facoltà erano divise in modo da assai ineguale Jekyll che era di natura complessa era proiettato nei piaceri e nelle avventure di Hyde e vi partecipava ora con trepida preoccupazione ora con avido entusiasmo ma Hyde non aveva che indifferenza per Jekyll o al massimo pensava a lui come il bandito della montagna pensa alla caverna nella quale si nasconde quando è braccato Jekyll provava molto più che l'interesse di un padre Hyde molto meno che l'indifferenza di un figlio unire il mio destino a Jekyll significava morire ai mille desideri cui per lungo tempo segretamente avevo ceduto e che ultimamente avevo accarezzato e soddisfatto unire il mio destino a Hyde significava morire a mille interessi e aspirazioni e diventare di colpo e per sempre disprezzato e senza amici il baratro poteva apparire diseguale ma aveva un'altra considerazione da fare perché mentre Jekyll avrebbe sofferto disperatamente nel fuoco dell'astinenza Hyde non si sarebbe nemmeno reso conto di quello che perdeva per quanto strane fossero le circostanze i termini del contrasto erano comuni e vecchi come l'uomo gli stessi stimoli e le stesse paure spingono il peccatore tentato e tremante a giocare la sua fortuna e accadde a me come accade a tanta parte dei miei simili di scegliere la parte migliore e di non avere la forza necessaria a tenerla in vita sì preferii l'anziano scontento dottore circondato da amici e vagheggianti oneste speranze e diedi un deciso addio alla libertà alla giovinezza al passo leggero ai palpiti violenti e ai segreti piaceri che avevo goduto sotto la maschera di Hyde forse feci questa scelta con qualche inconscia riserva poiché non mi disfeci della casa di Soho né distrussi gli abiti di Edward Hyde che si trovavano ancora pronti nel laboratorio per due mesi tuttavia teni ferma la mia decisione per due mesi condussi una vita di austerità mai conosciuta prima e ne ebbi come compenso la coscienza tranquilla ma poi il tempo cominciò ad indebolire i miei timori la soddisfazione della coscienza divenne una cosa scontata e cominciai ad essere torturato da angosce e desideri quasi che Hyde stesse lottando per la sua libertà e alla fine in un momento di debolezza composi e trangugiai di nuovo la pozione della metamorfosi suppongo che quando un alcolizzato ragiona fra sé e sé del suo vizio non gli capiti neanche una volta su 500 di pensare ai rischi che corre per la sua brutta insensibilità fisica così io per quanto avessi considerato con cura la mia posizione non avevo tenuto conto della completa insensibilità morale e della pazzesca prontezza al male che erano le principali caratteristiche di Edward Hyde eppure proprio da esse venne il mio castigo il mio demone era stato in gabbia a lungo venne fuori ruggendo avvertì già mentre bevevo la pozione una più sfrenata più furiosa propensione al male deve essere stato questo penso a scatenare nel mio animo quella tempesta di impazienza con la quale ascoltai le civili parole della mia infelice vittima e dichiaro davanti a Dio che nessun uomo moralmente sano avrebbe potuto macchiarsi di un tale crimine per una provocazione così meschina e che lo colpì in uno stato d'animo non più cosciente di quello di un bambino malato che rompe un giocattolo ma io mi ero volontariamente spogliato di tutti quegli istinti equilibratori per mezzo dei quali anche il peggiore di noi continua a camminare fra le tentazioni con una certa fermezza e nel mio caso essere tentato anche leggermente significava cadere istantaneamente lo spirito infernale si svegliò in me e cominciò ad imperversare con gioia selvaggia percossi quel corpo indifeso e ogni colpo mi riempiva di delizia solo quando la stanchezza cominciò a farsi sentire avvertì all'improvviso nella convulsione finale del mio delirio un freddo brivido di terrore trafiggermi il petto la nebbia si diradò vidi la mia vita in pericolo e fuggii dal teatro di quegli eccessi esultante e tremante il mio desiderio del male soddisfatto ed eccitato il mio amore per la vita spinto al parossismo corsi alla casa di Soho e per essere completamente al sicuro distrussi le mie carte poi presi a vagare per le strade illuminate sempre in uno stato di combattuta estasi mentale ripensando con sinistro piacere al mio delitto progettandone a cuor leggero altri per il futuro e tuttavia affrettandomi per paura di udire dietro di me i passi del vendicatore Hyde aveva una canzone sulle labbra mentre componeva la miscela e bevendola brindò all'uomo che era morto gli spasmi della trasformazione non si erano ancora calmati in lui che già Henry Jekyll versando lacrime di gratitudine e di rimorso era caduto in ginocchio con le mani tese a Dio il velo dell'autoindulgenza fu squarciato per intero vidi tutta la mia vita la seguii dai giorni dell'infanzia quando camminavo tenendo la mano di mio padre attraverso le fatiche e l'abnegazione della mia vita professionale per arrivare ancora e ancora con lo stesso senso di irrealità ai dannati orrori di quella notte avrei voluto un po' di rinocchio e la mia vita cercai di soffocare tra le lacrime e le preghiere la folla di orrende immagini e suoni che la memoria mi scatenava contro e tuttavia in mezzo alle suppliche il detestabile volto della mia iniquità continuava a indagare nella mia anima poi la violenza del rimorso cominciò a svanire e un senso di gioia prese il suo posto il problema della mia condotta era risolto essere Hyde da quel momento non era più possibile che lo volessi o no ero ormai confinato nella parte migliore della mia esistenza quanto godetti a questo pensiero con tanta volenterosa umiltà abbracciai ancora una volta le restrizioni di una vita normale con quale sincero spirito di rinuncia serrai la porta dalla quale così spesso ero andato e venuto e ruppi la chiave sotto il tacco il giorno dopo arrivò la notizia che il delitto era stato scoperto che la colpevolezza di Hyde era fuori dubbio e che la vittima era uomo universalmente stimato non si trattava solamente di un crimine ma di una tragica follia credo che fui contento di saperlo contento che i miei impulsi migliori venissero rafforzati e protetti dalla paura del patibolo Jekyll era ora la mia cittadella il mio rifugio per un attimo che Hyde si fosse mostrato il mondo intero sarebbe sorto contro di lui e l'avrebbe catturato e linciato decisi di redimere il passato col mio comportamento futuro e posso dire onestamente che questa decisione portò qualche buon frutto sai tu stesso con quanta dedizione negli ultimi mesi dell'anno scorso io mi sia adoperato ad alleviare le sofferenze dei miei simili sai quanto ho fatto per gli altri e come i giorni siano trascorsi calmi quasi felici per me ne posso dire in verità che questa vita senza peccato e dedita al bene mi annoiasse penso anzi che giorno per giorno ne codevo di più ma era ancora assessionato dalla doppia natura delle mie intenzioni e via via che i miei propositi di penitenza si placavano i miei istinti più bassi così a lungo coltivati e così di recente ridotti al silenzio cominciarono a smaniare di tornare liberi non che sognassi di risuscitare Hyde la semplice idea di un simile fatto mi dava le vertigini no fu dentro me stesso che ancora una volta fui tentato di giocare con la mia coscienza e mi avvenne ciò che sempre avviene a chi pecca in segreto caddi sotto gli assalti della tentazione c'era una fine a tutto anche il recipiente più capace si colma e questa breve condiscendenza al male distrusse una volta per tutte l'equilibrio della mia anima tuttavia non ero allarmato la caduta sembrava naturale come un ritorno ai vecchi tempi prima che facessi la mia scoperta era una bella giornata limpida di gennaio la terra bagnata dove la brina si era sciolta il cielo senza nuvole Regent's Park era pieno di piccoli brusii invernali ma gli odori erano già quelli dolci della primavera mi sedetti al sole su una panchina la belva che era in me affrettava gli offuscamenti della memoria lo spirito sonnecchiava ripromettendosi un pentimento ma intanto non accennava a reagire dopo tutto riflettei ero come i miei simili e sorrisi paragonandomi agli altri uomini paragonando la mia attiva buona volontà alla pigra crudeltà della loro indolenza ma proprio nel momento nel quale formulai questo vanaglorioso pensiero mi prese un malore un'orrenda nausea e il tremito più mortale poi il malessere passò lasciandomi esausto infine mi riebbi del tutto ed avverti un cambiamento nella natura dei miei pensieri una maggiore audacia sprezzo del pericolo scioglimento di ogni vincolo mi guardai i vestiti mi pendevano senza forma sulle membra ritratte la mano che giaceva sul ginocchio era tutta tendini e peli ero ancora una volta Edward Hyde un momento prima ero sicuro del rispetto universale ero ricco e amato una tavola sempre apparecchiata mi aspettava nella mia sala da pranzo ed ora ero un paria braccato senza casa un famoso assassino destinato alla forca la mia ragione vacillò ma non mi abbandonò del tutto ho osservato più di una volta che quando ero Hyde tutte le mie facoltà sembravano acutizzarsi e il mio spirito era molto più elastico e in tensione fu così che dove Jackie l'avrebbe probabilmente dovuto soccombere Hyde fu all'altezza della situazione le droghe erano in un cassetto del mio laboratorio come fare per raggiungerle? questo era il problema che stringendomi la testa fra le mani dovevo risolvere avevo chiuso a chiave la porta del laboratorio se avessi cercato di entrare in casa e mi avrebbero consegnato alla giustizia capì che dovevo rivolgermi a qualcuno e pensai a Lenion come fare a raggiungerlo e a persuaderlo? supponendo che riuscissi a sfuggire la cattura per le strade come sarei potuto arrivare a parlargli? e come potevo io sconosciuto e sgradevole visitatore convincere il famoso fisico a forzare lo studio del suo collega Jekyll? allora mi ricordai che del mio carattere originario mi rimaneva una cosa potevo scrivere con la mia calligrafia e non appena intravidi questa scintilla di luce la strada da seguire fu chiara da cima a fondo mi sistemai i vestiti meglio che potevo e fermata una carrozza mi feci condurre a un albergo di Portland Street del quale per caso ricordavo il nome vedendo il mio aspetto che era veramente piuttosto buffo anche se tragico era il destino che quei panni ricoprivano il vettorino non potrette attenere l'ilarità gli grignai i denti in un accesso di furia diabolica e il sorriso svanì dalla sua faccia fortunatamente per lui e più ancora fortunatamente per me perché un minuto dopo l'avrei certamente buttato giù dalla carrozza entrando nell'albergo mi guardai attorno con aria così truce che i camerieri si misero a tremare non si scambiarono neanche uno sguardo in mia presenza ma presero i miei ordini ossequiosamente e mi condussero in una saletta privata fornendomi dell'occorrente per scrivere Heidi in pericolo di vita era una creatura nuova per me agitato da una collera insensata pronto a commettere un delitto bramoso di far soffrire i suoi simili ma era un essere astuto dominò l'ira con un grande sforzo di volontà scrisse due importanti lettere una a Lenion l'altra a Paul e per avere la sicurezza che le impostassero ordinò di farle raccomandate restò poi seduto tutto il giorno vicino al fuoco nella saletta privata a rosicchiarsi le unghie cenò lì solo con le sue paure mentre il cameriere tremava visibilmente sotto il suo sguardo quando la notte fu scesa si rannicchiò nell'angolo di una carrozza chiusa e si fece portare avanti e indietro per le strade della città lui dico non posso dire io quel figlio dell'inferno non aveva più nulla di umano nulla più viveva in lui se non odio e terrore e quando infine pensando che il conducente poteva insospettirsi egli congedò la vettura e si avventurò a piedi attirando l'attenzione per i suoi abiti fuori misura vero oggetto di curiosità per la folla dei passanti notturni queste due passioni dominanti presero a infuriare dentro di lui come una tempesta camminava veloce inseguito dalle sue paure parlando tra sé scivolando lungo i vicoli meno frequentati contando i minuti che ancora lo separavano dalla mezzanotte una donna gli si avvicinò offrendogli credo una scatola di fiammiferi e gli la colpì in pieno viso ed essa fuggì quando a casa di Lenion ridivenne me stesso l'orrore del mio vecchio amico mi colpì credo non so bene ma non era che una goccia nel mare in confronto all'orrore col quale io guardavo alle ore passate c'era stato un cambiamento in me non era più la paura della forca era la disperazione di essere Hyde che mi sconvolgeva ascoltai la condanna di Lenion un po' come in sogno e fu come in sogno che me ne tornai a casa e andai a letto dormii dopo la prostrante fatica di quella giornata di un sonno profondo assoluto che neanche gli incubi che mi assediavano riuscirono a interrompere mi svegliai la mattina scosso debole ma riposato temevo ancora e odiavo il mostro che dormiva in me e naturalmente non avevo dimenticato i terribili pericoli del giorno prima ma ero di nuovo a casa tra le mie mura e vicino alle mie droghe e la gratitudine per la salvezza brillò così forte nella mia anima da eguagliare quasi lo splendore della speranza dopo colazione camminavo pigramente nel cortile piacevolmente stordito dall'aria gelida quando di nuovo fui assalito da quelle indescrivibili sensazioni che annunciavano il cambiamento ebbi appena il tempo di rifugiarmi nello studio che nuovamente ero colto dai brividi e dai furori di Hyde questa volta mi ci volle una doppia dose per tornare me stesso ma ahimè sei ore dopo mentre sedevo triste vicino al fuoco gli spasi mi tornarono e dovetti bere un'altra volta la pozione in breve da quel giorno in poi sembrò che solo con un grande sforzo come una continua ginnastica e solo sotto lo stimolo immediato della droga io potessi mantenere l'aspetto di Jekyll a tutte le ore del giorno e della notte ero colto dal brivido premonitore soprattutto se dormivo o semplicemente mi assopivo su una sedia un momento mi svegliavo sempre come Hyde la sovrastante minaccia di questo tragico destino e l'insonnia alla quale ora mi condannavo molto al di là di ogni limite immaginabile fecero di me una creatura rosa e svuotata dalla febbre illanguidita e debole nel corpo e nella mente ossessionata da un solo pensiero l'orrore per l'altro me stesso ma quando dormivo o l'azione della droga cessava cadevo quasi senza accorgermene gli spasimi della metamorfosi erano ogni giorno meno violenti in preda a una fantasia traboccante di immagini orrifiche di un'anima che delirava i nodi inspiegabili e di un corpo che non sembrava forte abbastanza per contenere quelle furenti energie di vita i poteri di Hyde parevano essere cresciuti con la malattia di Jekyll e certamente l'odio che ora li divideva era altrettanto forte da ambo le parti per Jekyll era una questione di istinto vitale ormai aveva visto in piena luce la deformità di quell'essere che divideva con lui alcuni fenomeni della coscienza e che gli sarebbe stato compagno nella morte e a parte questi vincoli comuni che erano la parte più cosciente della sua sventura egli pensava a Hyde nonostante tutta la sua energia vitale come a qualcosa non solo di infernale ma di inorganico questa era la cosa sconcertante che la melma del fosso avesse voce e gridasse che la polvere amorfa gesticolasse e peccasse che ciò che era morto e senza forma usurpasse le funzioni della vita e ancora che quell'orrore insorgente fosse legato a lui più strettamente di una moglie fosse più intimo di un occhio che giacesse rinchiuso nella sua carne dove lo sentiva ululare e lottare per venire alla luce e che nei momenti di debolezza e quando si abbandonava al sonno lo dominasse e lo escludesse dalla vita l'odio di Hyde per Jekyll era d'altra natura il suo terrore della forca lo spingeva continuamente a commettere un temporaneo suicidio tornando al suo stato inferiore di parte invece che di persona intera ma detestava questa necessità detestava l'abbattimento nel quale Jekyll era caduto e si risentiva dell'ostilità con la quale veniva considerato ecco il perché degli scherzi scimmieschi che mi giocava scarabocchiando bestemmie sulle pagine dei miei libri con la mia calligrafia bruciando lettere e distruggendo il ritratto di mio padre e certo non fosse stato per la sua paura di morire già da molto tempo avrebbe rovinato se stesso per potermi coinvolgere nella rovina ma il suo amore per la vita è meraviglioso dirò di più io che sto male e rabbrividisco al solo pensiero di lui quando penso all'abiezione e al furore del suo attaccamento alla vita e sapendo quanto egli teme il mio potere di ucciderlo col suicidio scopro che in fondo ho pietà di lui è inutile e il tempo stesso me lo impedisce prolungare questo racconto basti dire che nessuno ha mai sofferto tormenti così crudeli eppure anche a questi l'abitudine ha portato no non sollievo ma una certa insensibilità dell'animo una certa acquiescenza alla disperazione e il mio castigo avrebbe potuto continuare per anni se non fosse per quest'ultima calamità che mi ha definitivamente separato dal mio volto e dalla mia natura la provvista dei cristalli di sale che non era mai stata rinnovata dal giorno del primo esperimento cominciò a scarseggiare mi feci mandare una nuova provvista e composi la miscela seguì l'ebollizione e anche il primo cambiamento di colore ma non il secondo bevetti e non ebbe alcun effetto Paul potrà dirti come abbia fatto rovistare tutta Londra in vano ora sono convinto che la prima fornitura del sale era impura e che fu quell'impurità sconosciuta a dare efficacia alla pozione è passata circa una settimana e sto terminando di scrivere sotto l'influenza dell'ultima delle vecchie polveri questa è perciò l'ultima volta a meno di un miracolo che Henry Jekyll può pensare ai suoi pensieri o vedere la sua faccia quanto tristemente alterata nello specchio ne devo ritardare troppo la conclusione di questo scritto perché se finora il mio racconto è scampato alla distruzione è stato solo per la grande prudenza mista alla buona fortuna se i sussulti della metamorfosi mi prendessero mentre scrivo Hyde farebbe a pezzi questi fogli se invece dopo che avrò finito passerà un po' di tempo il suo meraviglioso egoismo e la sua preoccupazione delle cose del momento li salveranno ancora una volta dal suo scimmiesco dispetto e in realtà il destino che si sta chiudendo su noi due ha già cambiato e schiacciato anche lui fra mezz'ora quando di nuovo e per sempre assumerò quell'odiata personalità so che andrò a sedermi sulla mia poltrona tremante e in singhiozzi oppure continuerò terrorizzato con un esasperato desiderio di udire a camminare su e giù per questa stanza mio ultimo rifugio terreno tendendo l'orecchio ad ogni suono minaccioso morirà Hyde sulla forca o troverà all'ultimo momento il coraggio di uccidersi lo sa Dio a me è indifferente questa è la vera ora della mia morte e quel che seguirà riguarda un altro non me ecco dunque nell'atto di deporre la penna e di sigillare la mia confessione io metto fine alla vita di questo infelice Henry Jekyll grazie a tutti grazie a tutti